Gradirei salutarvi con una riflessione. Esiste ancora il concetto di morte in un mondo nel quale i guerrieri più feroci non possono morire nonostante le ferite nonostante la perdita dei sensi è possibile ancora morire qui a Lothric è mai stato possibile morire per un essere umano? Dopo il segno oscuro ve lo dico io come si può morire Si può morire quando il proprio nome viene cancellato Quando si viene rimossi dalla storia quando si viene estrapolati dalla narrativa e dalla Censurati come una pagina strappata L'essere che si pone dinanzi a me non era umano Poteva essere ucciso nella maniera in cui comunemente intendiamo tale azione Eppure a quanto dice questo libro suo padre o suo fratello ha compiuto il crimine ben peggiore Ha rimosso il suo nome la sua memoria Io sono destinato a divenire il dio di questo mondo E in quanto tale Incarno il potere della resurrezione Morirai per mano mia re senza nome e altrettanto per mano mia Risorgerai per sempre Questa pagina è tua Questa pagina è tua E il tuo nome non verrà mai più dimenticato 3, 2, 1 Ma buonasera a tutti amici video spettatori E in particolar modo con un pc che mi ha laggato di 10 secondi l'inizio della sigla Buonasera maestro Buonasera Eccoci ragazzi Eccoci qua Dovremmo cambiare la password perché è appena liccata Va bene Credo almeno Credo di averla liccata Sì era godo Credo L'avevamo cambiata Va bene adesso diventerà qualcosa Godaga Lo diremo a breve Non c'è problema È liccata tipo 4 volte Facciamo schifo Buonasera Amici video spettatori Buonasera Io non so come ci reggiamo in piedi Io e il maestro But still Eccoci qua Siamo qui Prima di qualunque altra cosa Ricordiamoci Ricordiamovi Che questa settimana avremo solo oggi Però oggi non ci sono orari Esatto Esatto Questa settimana purtroppo sì Abbiamo solamente oggi Perché Domenica saremo impegnati Sarà colpa mia stavolta Saremo impegnati con uno showdown Competitivo Su Diamante Lucente Perla Splendente Quindi se vorrai passare da spettatore Puoi farti un'idea E Esatto Quindi insomma Domenica faremo questo streaming lungo A tema competitivo Pokemon Però poi Settimana prossima Invece Gli slot Ritornano Che fatica Da domenica a oggi Sono stato sconfitto Dal Nameless King Per un soffio Per un soffio Ma nell'onore Brutalmente Lo so Ma considera questo Abbiamo tra i commenti Quel ragazzo Che conta Tutte le tue sconfitte Per cercare di creare Una sorta di storico Di quello che ti ha dato più Un filo da torcere E per ora Escludendo dal primo posto Ovviamente Frida Perché è stata storica Come lo è stato per tutti E fa parte dell'avventura In maniera estremamente Diciamo Congrua A noi In Blind Run Per ora Il re senza nome È comunque sotto I guardiani dell'abisso Però i guardiani dell'abisso Sono arrivati in un momento Proprio di stanchezza E turbo meme Quindi Sì Secondo me Allora Secondo me Il Nameless King Può già adesso Portarsi a casa La nomea del boss Più difficile per ora Della run Anche essendo sotto I guardiani Certo Comunque con i guardiani Con i guardiani Se ti ricordi Mi stavo dando un po' di handicap Al bracciarmi Non me lo merito Usiamo solo quest'arma qui Bla 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 Invece qui Con il Nameless King Ho dato il tutto per tutto E Ciò nonostante Sono gasato Perché i boss Antropomorfi Sono I miei preferiti Non solo di Dark Souls Ma di questo genere In generale Quando Un boss Ha un'arma Ed ha Appunto Una stazza Antropomorfa E una grandezza Non troppo elevata Per me è perfetto Questo amore È cominciato In Devil May Cry 3 Quando avevo eletto Le fight contro Virgil Alle fight più divertenti Del gioco E poi è continuato Possiamo citare Volendo Anche quelle di Kingdom Hearts Le fight contro Riku Dell'1 Erano le mie preferite And so on Quindi Vedere sempre Questi esseri Non troppo sovrastanti Parlo ovviamente Della fase 2 Del Nameless King Mi fa sempre piacere Perché sono le fight Che preferisco Quella con Artorias Ce ne sono tante Ormai Quella contro Gwyn Quella contro Gwyn E Non parlo di Virgil Del primo Devil May Cry Ma 3 Devil May Cry 3 Quindi sia la fight iniziale Sulla torre Sia quella poi Quando usa Beowulf Prima che succedano cose E poi La fine del gioco Comunque Dobbiamo farci una chiacchierata Devi Ma A voglia A voglia Dobbiamo guardarci In faccia E dirci Che cosa abbiamo scoperto L'ultima volta Il Nameless King È vivo Michele nel privato Quando ci siamo visti Qualche giorno fa Cioè mercoledì E abbiamo fatto anche La live insieme Mi ha detto che Per i giocatori blind Di Dark Souls 3 Il Nameless King È stata una sorpresa Devastante Un reveal Inaspettato Inaspettatissimo Questo dimostra Quanto sia assurda E strana La mia run Nel modo in cui È stata costruita For me For Sidonia By Sabaku E by tutte le persone Che hanno giocato A Dark Souls Perché per me Invece Credetemi È stato un build up Che ha trovato Il suo culmine Non nella boss fight Cioè sì A livello estetico E gameplayistico Ma non a livello logico A livello logico Il build up finale È arrivato Con gli esseri Mezzi Draghi Con i soli Accanto all'altare Io lì ho capito Ho capito Che avrei trovato Il Figlio di Gwyn Anche perché Esatto Michele avrà sicuramente Messo dei semini Come mi scrivono in chat Che ho raccolto Consciamente Inconsciamente Durante questa serie Parlo della trilogia Direttamente Non senza capacità Ma raccolto Eh beh sì dai Poi sicuramente La prossimità temporale Ha fatto il suo gioco Perché Per me non sono stati Anni fa Ma mesi fa Le statue di Gwyn E la storia Del figlio di Gwyn E poi Esattamente Il maestro Mi insemina sempre Molto bene Dicevo Sicuramente La storia Del figlio di Gwyn È stata tra le storie Che più mi è rimasta Impresso di Dark Souls 1 Ve lo ricorderete Quanto sono rimasto Stunnato dal figlio di Gwyn Mi aspettavo addirittura Che fosse un boss Dell'1 A un certo punto La storia di questo Essere censurato Era anche un po' Il Troppo narrativo Dell'avanzamento L'oristico Di Firenzo Il fatto che Firenzo Non volesse essere Dimenticato Non volesse essere Censurato Come era successo Ad Anor Londo Al figlio di Gwyn Quindi Ho legato questa storia Anche al mio personaggio Di DS1 Di conseguenza Insomma Quando ho visto Quella statua prima E poi dopo i soli Ho fatto 2 più 2 Ho detto ok Ci siamo Ecco questa è la storia Del figlio di Gwyn Una storia che però Si rivela nei suoi contorni Nei suoi confini Ma non conosco ancora Il colore di questo disegno È vero Assolutamente non lo conosci Posso provare solo a indovinare Quindi l'introduzione di stasera Sarà un tennis Tra ciò che so Ciò che potrei sapere Esatto E ciò che penso Cosa sappiamo? Che Gwyndolin Ha censurato suo fratello Divenuto ormai Re di Anor Londo E succeduto Al padre Si Potremmo dire Che Prince Lothric E il figlio di Gwyn Hanno qualche Similitudine A qualche punto in comune Perché io credo Che anche Lui In teoria Fosse destinato a vincolare Chi? Se non il figlio di Gwyn Il primo genito E Il maschio de casa Avrebbe Potuto al meglio Imbracciare La successione Nel culto del vincolo Esatto Io credo Che in questo gioco Loro vogliano farci capire Che al tempo È successa più o meno La stessa cosa Cioè Esattamente come F Deve vincolare Secondo me Al posto di Prince Lothric Così Sabaccu II Vincolò al posto di G Vogliamo chiamarlo così? Certo G E E quindi Secondo me C'è questo proprio Legame Di lore Della storia Che si ripete G Non vuole vincolare E Vuole fare Qualcos'altro Vuole forse Studiare Il mondo Le sue reazioni La sua biologia E anche La Il passato Dei draghi Immagino Non fosse neanche Nato Questo figlio Durante la Guerra Contro i draghi O se era nato Non ne abbiamo Conosciuto Conosciuto le gesta In guerra Vero? No Però Però Era il dio Della guerra Lo sappia Questo si Però non sappiamo Se ha combattuto Se ha combattuto Contro i draghi Lui personalmente O no Vero? Allora Questa è una domanda Da porsi Assolutamente In questo capitolo Perché Hai visto Che c'è Un strano Rapporto Del culto Della metamorfosi E della Storia Degli apostoli Draconici Legata A questo Nameless king Però Quello che vedi Nel suo equipaggiamento È comunque Il potere del fulmine Che era l'arma Contro i draghi Che succede? Qual è la verità? No beh Indubbiamente È semplicemente Un'eredità Eh io la vedo così È un'eredità Io la sto leggendo così Io per ora La sto leggendo Come eredità Se il figlio di Gwyn Hai letto la sua storia Ti hanno insegnato Magari anche a usare Proprio quel potere Certo è che potrebbe Anche tranquillamente Essere stato un commilitone Tanto nella cutscene iniziale Di certo Di Dark Souls 1 Intendo Di certo non Si sarebbero messi A spoilerare La sua presenza Quindi Punto interrogativo Non sappiamo se G È presente O meno Alla Diciamo Durante la guerra dei draghi Però sappiamo Che a un certo punto Secondo me Rimane affascinato Dall'idea di potersi Congiungere a loro E Adorarli Che a tal punto Da sognare Di divenire Loro pari A livello di forza Questo Deve aver fatto Adirare enormemente Gwyndolin Che da una parte Deve essere stato sfavato Perché G non voleva Vincolare E dall'altra Perché G addirittura Non solo non voleva Seguire il padre Ma voleva andare Ad abbracciare i nemici Che con tanta fatica E non senza sacrificio Il papà aveva sconfitto E quindi dice Ok fallo Ma Levati dal cazzo Da Norlondo O meglio Prova ad ucciderti Da Norlondo Perché non rappresenti La nostra famiglia Tu hai pensato Proprio appunto Hai collegato Gwyndolin Anche persino Al complotto Dei Cida Sì 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 Proprio notte Dei lunghi coltelli In questo caso Per G Che Insieme al potere Allora regnante Di Norlondo Credo viene Nell'ombra Fatto fuori Il figlio di Gwyn Si porta dietro Tutto Il suo esercito O meglio Parte del suo esercito Magari non tutto Ci sono Delle forze Come la guardiana Del fuoco Di Norlondo Che rimangono Assolutamente fedeli A Gwyndolin Altri invece Vanno via Con il figlio E vengono qua Vengono qua Alla vetta Dell'Arcidrago Luogo che Noi Non Ritroviamo mai In Dark Souls 1 In teoria O alternativamente Che troviamo Mai completamente Diverso Però Essendo che Gia Ha già abbandonato A Norlondo Durante Dark Souls 1 In teoria Mi verrebbe da dirti Che non abbiamo mai Trovato questo luogo Semplicemente È lontano da Lordran E vicino a Lotric Per via della convergenza O se Non è lontano da Lordran Comunque Firenzo E Sabaku Secondo Non sono riusciti A meditare Abbastanza Da Raggiungerlo Stai toccando Argomenti Estremamente Avanzati Non tanto ormai Di speculazione Concreta O di descrizione Ma proprio Di conoscenze Del mondo Il racconto Di Dark Souls Trilogy Mi piace molto E ragazzi Per chi si fosse collegato Adesso Sto chiamando G In maniera ovviamente Affettuosa E legata alla nostra Lore Perché siamo tutti Dei senza nome Il figlio di Gwyn Sì Essendo che tutti quanti Iniziano con la G E visto che Gwyn Ever Gwyndolin Giustamente Uno può pensare Che è il primo Genico Più di qualunque Altro nome Esatto Dovrebbe avere Il nome che inizia Per G Quindi È assolutamente G lui Sarà A meno che non Vien fuori davvero Il suo nome Per me rimarrà G Cioè Anche F Lo scriverebbe Come G Se non dovesse Nella sua anima oscura Se non dovesse Venire fuori Il suo vero nome Comunque G Lloyd No no ragazzi Solo G A quel punto Io credo che A un certo punto Gwyndolin Riesca O chi per lui Riesca a individuare Dove si è nascosto Il bastardo Dal loro punto di vista E vengono qui Ad ammazzarlo Ci provano Quanto meno Ma I soldati E Le invocatrici Riescono a fermare Quest'invasione Ornstein Riesce a fare breccia Nella fortezza E perde la battaglia Davanti Alla Alla presenza Di G Che con il drago Lo fa fuori Quindi Siccome tu mi parli Di retcon Mi hai parlato Di retcon Più volte Ti direi che Nella nuova storia Ornstein Non ha mai incontrato Firenze Non ha mai incontrato Sabaku II Ornstein è morto Dopo Dark Souls 1 O durante Dark Souls 1 È irrilevante È morto Qui L'ammazza draghi È morto Per mano Un drago Cavalcato Dal figlio di Gwyn Questo è quanto Io credo che La storia Possa essere In linea di massima Questa Le statue Ed è bellissimo Che tu la racconti Esplori E Provi a immaginare Prima di leggere Descrizione Assolutamente Peraltro potremmo dire Che La statua Che abbiamo trovato Rotta In teoria Quella Intendo Allothric Poi E prima In Dark Souls 2 E prima ancora In Dark Souls 1 La statua rotta In teoria Dovrebbe avere Un'arma diversa Se non mi ricordo male È una lancia Un po' più allungata Vero? Hai ragione E quindi Ho pensato anche Che in realtà Ci sia un po' Una Dicotomia G Versione di G In quella statua Pari a Kaitavelka Ah ma Sono assolutamente D'accordo Tu considera che Molto probabilmente Per quanto Abbia mantenuto Nell'estetica E nelle azioni Anche Intese come Azioni possibili Dal potere divino Che possiede Deificazione O meno Perché era soltanto Una sorta di Gergo politico Per dargli un rango La statua Che vediamo È comunque Legata Prima del suo Abbandono Quindi È un equipaggiamento Che sarà cambiato Esatto Per me Per me Quella che vediamo qui È la statua Che c'era Non l'ondo Secondo me Perché è proprio Molto simile A quella del papà Ci sarebbe stato Strabene Potrebbe Assolutamente essere Quella che era Da non l'ondo Forse con un'arma Diversa Però non possiamo Forse con un'arma A me sembra una lancia Quella Della vecchia statua È molto simile Alla lancia Di Holstein È secca Mentre quest'arma È molto più spessa È molto più spadone Lungo Che lancia È bello il fatto Che i due Gwyn e G Abbiano Un moveset Comunque congruente E anche dei movimenti Congruenti È bello pensare Che comunque Anche forse Inconsapevolmente Il figlio di Gwyn Combatta un po' Come il padre Ed è bello Anche pensare Che in qualche modo Si è sopravvissuto Alla visione Folle del padre Che io vedo Come folle Certo Sì sì Tu Sì 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 Dall'altra parte Dall'altra parte Gwynevere Credo che Che fosse A conoscenza Del fatto che Il fratello È ancora vivo Secondo me Ma Non può Barra non vuole Ricordarlo Come un traditore Ma come un caduto E quindi Ecco perché Abbiamo il leone È un argomento Che riprenderemo Sono sicuro Che ne riparleremo Ecco perché Secondo me Ne parliamo appunto Lo vediamo All'Othric Come un caduto Come il leone Quindi più Faram E meno G Il dio della guerra C'era Oggi abbiamo Un mausoleo Per lui Lo ricordiamo Con questi bei medaglioni E la statua rotta Davanti alla quale Possiamo prostrarci In preghiera Ma lì finisce Io penso che Gwynevere sappia Che Che G è vivo Ma non Non voglia Né Riallacciare Rapporti Nel tantomeno Farsi vedere Anche perché Credo che G odi Tutta quella famiglia Guarda Stai trattando Un argomento Così delicato E sentimentale Che a questo punto Ti anticipo qualcosa Che volevo discutere Con te dopo Ti lascio Un'interpretazione Assolutamente Priva di fondamenti Rescrittivi Ma permettici Insieme Di presentare Questo anche ai ragazzi Sono pronto Che fosse sempre Stato lì O meno Sappiamo che Irythil E soprattutto La cattedrale Di Norlondo Non è nella sua Location Iniziale Tutta Converge Ha avuto Una convergenza Lothric Insieme Forse anche Alla vita Dell'Arcidrago Quello che accade Quindi È che Volente Unolente A sorpresa O con una Previsione Dell'evento In arrivo Sullivan Gwyndolin Gwynevere Abbiano visto Avvicinarsi O sapessero Stesse arrivando Questo luogo E quindi Avessero scoperto Percepito Esplorato L'idea Che il primo genito Di Gwyn fosse lì Ora Sappiamo benissimo La storia Di Gwyndolin E il primo genito Come è andata a finire Sappiamo Che a causa Della sua Stupidità È stato Esiliato E gli è stato tolto Nome E rango Hai Interessantemente Dedotto O intuito Perché Praticamente Comunque Salvo motivazioni Descrizioni Più avanzate Certo che Qualcosa si leghi Ai draghi Visto che ne cavalca uno Porca messa È anche un drago strano Un drago piumato Un po' corvino Sì esatto Un discendente Molto particolare Sì E quindi Quella è una storia Che conosciamo Ma Come ti introdussi Sia per creare hype Sia per darti un contesto Comunque La battaglia qui Non è stata con Irithil No È palese che non è stata con Irithil No no È con le milizie di Anor Londo 100% Non Irithil Anor Londo Ma infatti Secondo me È un po' di tempo fa Sta roba è successa Non Durante il casino finale Che stiamo vivendo Esatto E C'è un dettaglio Nella mappa di Irithil Voglio vedere la chat Che cosa ne pensa Se gli si accende una lampadina Nella mappa di Irithil Sì Adesso quando te ne parlerò Tu dirai Ah sì certo E cominceremo a pensare A cosa possa significare Te la metto in maniera Molto romantica Smielata E triste Perché Gwyndolin È un personaggio Che che dir si voglia È triste Porca miseria Che fine di merda Esatto In tutto No Sempre stato nell'angolo Sempre stato abbandonato Anche dal padre In una torre Segregato E nascosto Ha per abnegazione Sottomissione Al suo Dio Re E papà Accettato un destino Anche se a un certo punto È emerso Perché abbiamo visto le statue Forse potrebbe essere quello Il momento in cui lui dice Ok Emergo Andiamo a punire il fratello Andiamo a vedere dove è andato Però te la metto lì E se invece Nonostante tutto Dopo Millenni Tempi Non percepibili da noi Come esseri umani Nella logica Della mente che abbiamo Gwyndolin Magari senza mai perdonare Avesse Pensato di voler Ricongiungere la famiglia Ti spiego perché Da una parte Gwynevere Ci sono statue di Gwynevere E Gwynevere È palesemente Quindi Abitata a Irythil Per lo meno Questo lo sappiamo C'è nella fontana Me lo ricordo bene E non solo nella fontana Ce ne sono anche altri In giro Vero Che li chiamano Gwynevere La fontana è la prima Sì 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 Bravissimo Te la metto lì È una cosa che ho anche discusso Con Mirko E se Quando hai trovato L'anello Del primo genito Dinanzi alla cattedrale Ti ricordi Al pieno terra Assolutamente La cattedrale di Sullivan E se lì fosse stato Inizialmente pianificata Una statua Del primo genito Per in qualche modo Invitarlo a tornare E poi tutto questo Si è sgretolato Quando Sullivan Ha preso il controllo Con la fiamma profanata Esattamente Non ci può stare Mi piace L'interpretazione È molto 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 dolce È aperta Però c'è l'anello Però c'è l'anello Capisci Cioè Mi piace È una cosa che ha senso E Più che altro È coerente Con il trovare strumenti In Dark Souls 3 Solitamente Pensiamo agli occhi Della guardiana E al significato Che hanno Allora l'anello Lì potrebbe avere Tranquillamente Questo significato Quindi sì Forse Gwyn Allora Perdonami Gwyndolin Prima Cerca di fare fuori Il fratello Ma poi Millenni dopo Capisce che il mondo Sta finendo E forse l'unica cosa Che vuole Ricongiungere la famiglia Alla fine del mondo Purtroppo Gli va molto male Chissà Forse sarebbe andata Diversamente Se non avessero litigato Chissà quanto Considera che Considera anche solo questo Com'era Il primo genito di Gwyn Al massimo Della sua forza Ma infatti Ma infatti In teoria La cosa assurda E qui Mi devi dare una mano Anche tu A capire La cosa assurda È che A mio avviso Per mantenere il piano Di Gwyn Soddisfatto G avrebbe semplicemente Dovuto fare Il suo lavoro Punto Il re E non ci sarebbero stati Neanche i non morti In mezzo alle palle No Perché Gwyn Aveva instaurato Il suo piano Per il vincolo Molto prima E lo so Però Pensa ci sarebbero stati Solo un plan B Continuamente presente Coltivato Come si fa con le patate Ma in teoria Se vincola mio figlio E poi il figlio di mio figlio E il figlio di mio figlio Ancora Sappiamo bene Che possono tranquillamente Vincolare anche persone non umane L'ha fatto Gwyn Assolutamente Quindi in teoria Può vincolare anche Avrebbe potuto vincolare anche G Avrebbe potuto vincolare Il figlio di G Io credo Da un certo punto di vista Che I non morti Siano stati allevati Anche per permettere Una scelta E non dover sacrificare Per forza La propria famiglia In eterno Per non avere Il primo genito Alla Lothric Che nasce per morire Però Dal punto di vista Di un figlio di Gwyn Come Gwyn Quindi che crede ciecamente Nel padre Secondo me sarebbe stato Anche un onore Finire come il proprio papà Buttarsi Possibilissimo Il proprio nonno Bisnonno Eccetera eccetera No quindi Mi butto in mezzo alle fiamme Tra l'altro poi parliamo Di primo genito Ma Ovviamente anche le donne Possono vincolare Quindi Una figlia Una nipote Avrebbero potuto Tranquillamente Mantenere il vincolo In casa Assolutamente possibile Forse aveva già Qualche sospetto Gwyn Nei confronti Del figlio Magari per carattere Impossibile Negare una cosa Del genere Gwyn sicuramente Tutto era Meno che uno stolto Perché i non morti Subito Perché coinvolgerli Subito Ok plan B Ma perché non puntare Subito su tuo figlio Credo Sì Diciamo che Chi ha Se c'è una cosa evidente Dalle descrizioni Anche in Dark Souls 1 Perché ricordiamoci Una cosa Dark Souls 3 Riesce a dare Dei dettagli E delle conclusioni Estremamente affascinante Ma molto Era già presente In Dark Souls 1 Non era importante Sapere che cosa Era accaduto al primo genito Per sapere come erano Andate le cose No 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 Bello che sia Comunque saperlo Si descrive Molto chiaramente Anche in Dark Souls 1 Il primo genito Come una persona Che con la politica Non vuole avere Niente a che fare Per quello Te lo sto dicendo O magari affascinato Da questi draghi In maniera morbosa Fin da piccolo E Gwyn Fezzetto Con questi draghi Hai rotto le palle Eh sì Esatto Esatto Non sapevo di avere Il bisogno di questa cosa Ma sì Per favore Miyazaki Dopo Elden Ring Dark Souls 0 E siamo Un membro Del Esercito Del dio della guerra Mamma mia Per favore Ho bisogno Di questa cosa Minchia Non sto scherzando Non sto scherzando Guarda Io te lo dico Senza scherzare Non succederà mai Perché non è un mondo In rovina E ne ha bisogno Miyazaki non riesce A fare una cosa Fatta bene Cioè Allo stato Allo stato buono Hai ragione Per essere un mondo Signi Hai ragione È quella È quella La fregatura Dell'autore Qualunque cosa tu faccia Anche l'interregno È dopo No Senza fare spoiler Però è dopo i disastri Non hai ragione Non ci scappa Non ci scappa Dalla mia We are fucked Mamma mia Ferdi mi hai fatto cacare addosso Ragazzi scusate Mi sono girato E ho visto Ferdi Nello studio Ho visto un umano Nello studio E mi sono chiesto Ma che cazzo Dimmi Ah sì 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 Ora finisco sta cosa Grazie Non l'ho sentito Perché avevo tutta Avevo la musica Dell'intro A tutto volume E ho visto Ferdi spawnare qui Il Ferdi primordiale Proprio lui Sì ragazzi Ferdi ancora qua E stiamo facendo una cosa E mi ha fatto un reminder Che dovrò fare a voi Ma lo faccio alla fine Dell'introduzione Dice Ha invaso Sì esatto È uscito fuori Ferdi E mi ha invaso Allora Dicevo Capisco quindi La esigenza Del mondo in rovina Di Miyazaki Sekiro che Quello che ho giocato Da solo Anche se poi Lo rigiocheremo insieme Indubbiamente Un cazzo di mondo in rovina Completamente putrescente E infatti Per certi versi Credo che Sekiro Sia ispirato A alcuni punti Anche di Dark Souls 3 Cioè Il modo in cui Fa schifo Sekiro In certi Frangenti Mi ha ricordato molto Dal Soul 3 E secondo me Ci sarà anche Bloodborne Di mezzo Ehm Più di quanto pensi Sì 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 Ecco Però Porca puttana Tu sai Adesso che Posso farti un po' Di questi discorsi Ed è incredibile Il Saido Bakuverse Che si sta creando Sì è vero Perché possiamo Perché possiamo Scambiarci una quantità Di esempi E di opinioni Che adesso a vicenda Sono più comprensibili Tali da arricchire Proprio il Metodo comunicativo Di queste due community La mia e la tua E quindi secondo me Stiamo creando Qualcosa di speciale Anche al di là Dei giochi Tanti vorrebbero La generazione 0 Di Pokémon Cioè quella Nella quale Perché Non è quello Non proprio Quella è la generazione Meno 1000 La generazione 0 È Il Professor Oak Cioè il gioco Nel quale Il Professor Oak Lui è stato campione Ma Non era ancora professore È stato campione Eh sì E Agatha Che è la Super 4 di Kanto Era probabilmente La sua ragazza Da quello che si intuisce E questa cosa Però non si è mai vista Chiaramente Lì parliamo Di niente Di una pura curiosità Sui personaggi E non lore Perché Kanto Non ne ha Però Andando sul macroscopico Qui in Dark Souls Chiaramente è un gioco Infinitamente più farcito Di storia Beh cazzo Vorrei davvero Io vivere la storia Del figlio di Gwyn Dal punto di vista Di chi vi pare Di un soldato Di Anor Londo Di un soldato Del dio del sole Cavolo È un Uno dei punti Più affascinanti Della lore Di Dark Souls Della trilogia Il tradimento L'allontanamento Del re Tra l'altro Chi rimane Il re di Anor Londo Poi Nessuno Gwynevere Diventa regina Sì Gwynevere Diventa regina Ma Diventa comunque Regina Non di Anor Londo Non degli dèi Non di Korda Va via Cioè in realtà Quel potere Rimane vacante Da quello che Assolutamente Sì Rimane completamente Vacante E infatti Ti viene data L'illusione di Gwynevere Come il linguaggio Del dio Di Anor Londo Che rimane Nel trono Però in questo caso Dell'ancella Che permette Al vero eroe Il Chosen Undead Di diventare Re E quello E quello Capisce Comunque A parte Vabbè ovviamente Jacopo ti leggo In chat Un Arcane Su Dark Souls Io e Michele Credo avremmo Entrambi il membro Nelle gengive Chiaramente Direi Guardate ragazzi La frase è perfetta L'idea È Arguta Per quanto in realtà A livello di sceneggiatura Sarebbe un casino Però Io posso permettere Di dire questo Qualunque cosa Arcane Andrebbe bene Ah si 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 Sono d'accordo Qualsiasi cosa Arcanizzata Vabbè Funziona Esattamente Comunque Ultima cosa Perché poi È bene Menare le mani Stasera Ultima cosa Che figo È il fatto Che F Come personaggio Appassionato Di storia Possa dare Un lieto fine A G E Tatuare Per sempre La sua Di storia Sull'anima oscura È stato Cancellato Eppur noi Oggi Lo faremo rivivere Attraverso I nostri ricordi E la nostra Di run E quindi La storia Di F E di P A livello Di roleplay Bello Stiamo scrivendo Per sempre Il suo nome Negli anali Sicuramente lui non ha molta voglia Di essere scritto Come il libro Ma No Sta bene dove sta Però in realtà Contemporaneamente È perduto Assolutamente Lo ricorderanno tutti Adesso E qua è tutto Anche qua è tutto in rovina Certo E qui è tutto È tutto Molti sono morti Dall'invasione Si sono pietrificati Non è andata benissimo Anche la storia Del figlio di Gwyn È stata Una fuga Che si ha portato Alla sua sopravvivenza Però Credo che ormai Lui abbia contatti Solo con i draghi O con il drago Esatto Esatto Mi chiedo se sia Quello del lago cinere O lui No Assolutamente Non sembra Vero No assolutamente Che fine ha fatto Quello del lago cinere Eh appunto Guarda Te la butto le Senza parlarne troppo C'è un botto di cat content In questa mappa Doveva essere qui Un botto C'erano quattro draghi qui Il problema Che probabilmente From poi ha deciso Che O Miyazaki Ha pensato che Era troppo avanzato Il mondo Troppo in rovina Per avere quattro draghi Qui Tutti belli contenti Per parlarne E infatti tu considera Che un vero drago eterno Vivo non l'hai mai visto A parte il cucciolo Qui abbiamo discendenti In teoria Ho visto Quello nel ricordo Di DS2 O era già un discendente Però quello È molto interpretabile Perché Trovi su di esso L'anima fasulla Vero No E poi è stato Sì Quello del ricordo Sì Sì Il drago antico Non droppa l'anima Droppa l'anima di gigante E La nebbia sceneria Se Non ci hai parlato Quando vai nel ricordo Trovi l'anima di drago antico Che è quella che viene descritta Come falsa Giusto Credo quindi Che il concetto stesso Di arcidrago Sia stato retconnato Da parte di Miyazaki Proprio per Far capire Che gli arcidraghi Erano questi Ho capito Queste cose gigantesche Quello della montagna Quindi dovremmo immaginare In Dark Souls 2 Se le patch fossero Retroattive Che sarebbe stato Reso così grande E che quello lì Quello della montagna Sembra proprio un drago Morto In guerra Sembra proprio franato Dopo essere preso dal fulmine Bam Sulla montagna Morto E poi si è fossilizzato Insieme al resto Della montagna Sì Ragazzi Allora Sin È un discendente Calamit Non è un discendente Ma è corrotto Dall'avisso Quindi Non è Non è autentico Diciamo che La coerenza draconica È qualcosa Che specialmente Poi scoprendo Che il giapponese Utilizza mille accezioni Viene da dare Cento di discendenze Diverse Non è Non cerchiamo Una coerenza ferrea Perché non la troveremo mai Non c'è Rispondo a Bruce Quint Perché per me Questa domanda Ha una risposta certissima Correggetemi se sbaglio Bruce Quint chiede Ma il re È senza senno O meno Per me è assolutamente Cosciente Lo vediamo dal modo In cui sacrifica il drago Esatto Esatto È coscientissimo Madonna In quel momento C'è sacrifica In realtà neanche Il drago sta morendo Semplicemente Gli dà l'estrema unzione E ne assorbe il potere Però lo fa in una maniera Così affettuosa Che non può essere Senza senno Ormai I senza senno Non conoscono più Emozioni D'alcun tipo I vuoti Non hanno Basti pensare Il fatto che Il sentimento Non ti rende vuoto Previene la vuotezza Il fabbro Delle catacombe Continua A battere Sul ferro E quindi Non diventa scemo Il mercante Del borgo dei non morti Non è vuoto E continua A vendere Per Se non mi ricordo male Una donna Che avevamo interpretato Come sua figlia Sì Giulia Giulia ecco Questo flash Di questa tizia Tu mi hai raccontato Anche la storia Della community Lui è un vacuo Lui è un vacuo Semplicemente Ha ancora il senno Non è un hollow Non è un hollow Non è completamente andato E per me In realtà G è ben lontano G è ben lontano Da tutto questo G è assoluto G non può diventare vuoto E basta G non è un umano Quindi non può diventare vuoto Ricordatevi questo ragazzi Però Guin Allora Guin è speciale Perché ha vincolato Esatto I gusci Della fiamma Specialmente Quando consumati A tal punto Sembrano non morti Vuoti Sono vuoti Ma non è la vuotezza Dell'oscurità Del non morto Ok È un'altra cosa Eh sì 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 Eh sì Allora Rispondo alla mia chat Tu non l'hai notato Non volevo parlartene Perché anche lì C'è parecchio Cut content Dell'area Ragazzi È vero Se si va a cercare Con Freecam Il modello Del primo genito Ha un volto Putrefatto anche lui Ma è più una questione Di tempo E longevità Non è vuoto È semplicemente Estremamente vecchio Come corpo Ok Certo E non si bagna più Del sole E della fiamma Quindi Io Direi che Possiamo partire E prendere le botte Ma Non rendiamo vano L'intervento Dell'invasore Ferdi Ho una comunicazione Per la mia community Nello specifico Ma magari Vista Vista la Convergenza Ormai di community Qualcuno è interessato Anche da te Stiamo aprendo Stasera Adesso Verranno Spammato Sicuramente Nella nostra chat Insomma Se volete Recuperatelo Da qui Stiamo aprendo Le iscrizioni Per il torneo Di unite Che ci sarà Il 19 dicembre Quindi tra Un po' Di tempo Se Domenica prossima Se volete Iscrivervi Vi Chiediamo di Affrettarvi Perché ci sono Solo 40 posti Ci saranno Dei premi Nintendo In palio Pensa un po' Caro Michele Una statua Di dialga Ufficiale Per una statuina È piccolina Però è una statuina Di dialga Ufficiale Per i vincitori Quindi se volete Partecipare Insomma Avete il link In chat Unite Poi è un bel È un bel modo Di rienterpretare Pokémon Per certi versi Più avanti di Pokémon A livello di supporto Costante Di settimana In settimana Lo trovate in chat Ragazzi Scusatemi Se faccio Questa communication Ma altrimenti Me ne scordo Perché poi Mi prendo Ovviamente Bene Per Dark Souls Bene Signori Ci siamo Vai Godi Fight Palchia ragazzi Non è che fa schifo Non era disponibile Non so perché Non c'è Palchia fa schifo Allora Tecchitisi Riprendiamo il controllo Riprendiamo il controllo F è completamente putrefatto Qui attacchi i critici È interessante Perché quando gli fai il repostino Gli fai male male Sì Il setup va bene Non è parriabile vero? Eh no Immaginavo perché l'altra volta Gli ho fatto veramente Una roba frame perfect Ma non ha parriato un cazzo Esatto Non è parriabile Però ricordati Che se vuoi stordirlo Devi essere aggressivo Eh certo Fight Let's go Mi alzo un po' il volume ragazzi Perché è veramente bella la fight Ma vai oh Goditela Re delle tempeste Quindi l'arma che ha ammazzato Yorm Veniva da qui È possibile O imbracciava comunque il potere del figlio di Gwyn Certo da figlio del sole A re delle tempeste L'hai fatto il giro a 360 Amico mio Ah Sto cazzo di fuoco Sono per niente caldo È normale che Ma infatti il primo try È di riscaldamento Oh mamma mia Non mi ricordavo sta mossa Un po' al tempo Ritornerai nel ritmo Porca miseria Tanti bevini abbiamo fatto eh Questo primo Questa prima fase Ok è fatta No Volevo la stylish kill No Odio Bene We're at it We're at it Me la riguardo Me la riguardo Me la riguardo Fatevi Una volta Guardate Un reset Sì Sembra La sua L'armatura Del Di Monster Hunter Rise Come si chiama il Tipo del martello Narcacuga È vero Gli trema la mano L'ho vista Bravo Oh 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 Bravo È così che si fa Hop Ah Ho voluto troppo Bravo lui Eh sì Uh Extreme punish qui Bravo lui Ups Eh sì le onde d'urto Speravo di stordirlo Lo so Bravo lui Ottimo Mezza vita ma il movimento guarda la danza è quella La danza è quella quindi ce l'hai Sì 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 Let's go Ok Sono più caldo Ehm What È giusto il follow No Perché sono qua Dove sei? È giusto Sì sì È giusto Ah perché devo tornare un po' indietro Giusto 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 Devi Guarda La scala è quella Eccolo qua Sì sì Perdonatemi un attimo di displacement Allora grazie dei regalini eh ragazzi Al solito grazie alle sub Siete Siete veramente Il supporto è intercettibile ragazzi siete eccezionali Siamo super concentrati ma Allora facciamo anche così Facciamo anche così Ma c'è anche il baffone Quando e se ce lo meritiamo Sì 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 ragazzi dobbiamo cambiare la password Per questo ci sono i segni Ma tanto dopo la cambiamo Non vi preoccupate Dai ora cerchiamo di fare speed La prima parte Eeeh Meno male che non fa troppa away No ci posso credere Ho un'abilità innata Per prendere Ma che cazzo Pensavo mi tirasse il fulmine Scusa Oioi Che cosa sta facendo Con questa telecamera In questo try ragazzo Il solito Peccato che questa prima fase Sia un po' rovinata Dalla telecamera È un gran peccato Cioè la vivi più come Aiuto Ecco è colpa mia La vivi più come un fastidio Prima della bella fight Esatto Ehi ehi No Ok In realtà ho fatto una figata Mia mossa preferita Si beve Si beve E si gioca adesso Troppo No Troppo Bevino Perché ho sbagliato Sto roll No Bastardo Che ha fatto la terza Dai Ma che pezzo Di merda Tutte e tre le volte La fa forse Se bevi Secondo me Secondo me Guarda Il bere È chiaramente dentro L'aia Quindi Perché ho provato a bere Tutte e due le volte Stava andando benissimo Infatti Ma ho provato a bere Tutte e due le volte E Ha come triggerato La terza combo Che non fa mai Invece Che pezzo De merda Bene 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 Ci siamo Ci siamo Dai Ok 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 Oh Mi prende Con un po' Dia Oh Via Eh lo sapevo Via Eh Bel try Questo Ottimo try Eh come Come fride fase 1 Che a volte Ti frega No Sni Perché fride fase 1 Una volta che l'hai capita È davvero improbabile Che ti freghi Qui Guarda Non stargli mai sotto Alla liverna Al drago Quello che è Insomma Gallina È un po' Una gallina Ma porca Di quella Puttata Super Bravo Non so che cosa vuole Ah ok Via No No Odio questo Boss Bello Questo collo E dai Stunnati Via Dai Dai Cosa sto vedendo Ti prego Io Io mi incazzo Ragazzi Se muoio Caduto No Per niente Pensavo stesse cadendo Ma come Ma non fa mai Due tick Era così Era perfetto Era Damageless A un certo punto Ti ha preso per il culo Con la parallasse Con tutto Con tutto Mi ha preso per la telecamera Maledetto Pezzo di merda Va bene Va bene No ma non era Momento tilt Ragazzi Momento tilt Del cameraman Di Lotric Arriva Franco Eccolo qua Sta qui Ogni tanto La evito Ogni tanto No Non capisco niente Dai collino Attico No ok Via Bello Oh Bello Ok Ok È morto no? Sì No Ok Ho avuto paurissimo Ho visto Quell'armina Che stava facendo Ma che fa Viene Ma di solito fa Ma porca puttana Ma sta diventando intelligente No Ma Porca di quella Troi Minchia Strode No Che cos'è Ma di solito parte con l'impatto Eh sì Si 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 è svegliato malissimo Il ragazzo Va bene Va bene Va bene Ci sta Ah Bad timing Volevo troppo Che cazzo Tio Mart Eh insomma Ok Bella Bellissimo No Che stavo a dire Che cazzo Che cazzo Pulito Eh sì Eh sì Attento eh Bravo Anche io vado in fase 2 Coglione Oh Qualcuno qui si è fatto male Madonna Col buff Cazzo No Cazzo Però Però Sei andato Eh però è stata la tua fase 2 Cazzo Ho sentito proprio L'ira funesta Era bella Era bella Era bella Sì 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 Era bella Cazzo Liquid Liquid È stato bello No questa non è ravidità Questa è stato Io poco bravo a schivare E non sapevo Cosa facessero quei piedini Ha fatto a un certo punto Piedini Eh certo Esatto Quello è il piedino Poca vita No no Avido la prima volta Che ci sono andato vicino Stavolta non è ravidità Stavolta era proprio Un'esperienza Sono stato poco bravo A rollare Punto Io odio questa prima fase E tempo perso Sono serio Non so perché ho fatto questo try Però Non ti preoccupare Davvero Cioè sarebbe stato Bellissimo Entri Lui ammazza un drago E ti combatte Come Artorias Con Il popolano Boh sì Non lo so È veramente Tempo perso Secondo me Non aggiunge nulla A parte appunto Il dettaglio Del sacrificio del drago Bravo Lui comunque sì Esatto Lui sta facendo G la veteran run Col maestro Che è Q Ovviamente E Ha fatto la non damage Ha finito lui Arriba al Fulvia Bravo Quella è stata una schivata Souls like Istinto Ok Ma sapete che vi dico No target tutta la vita In questi momenti È più Stronzo Poi colpirlo Lo devo mettere E togliere Tipo E vai Affanculo Vai Tipo Ora lo dovevo mettere Per colpirlo Più che altro Non capisco mai Quando Porca di quella Troia Fa sta roba Sto perdendo Estus A cazzo Tanto non ti dà il tempo Di usarle No è vero C'hai ragione E crepa Dai Oh no È il fuoco Sto troppo vicino C'è Nove estus Vabbè Che trai De merda Madonna Mi sta ubriacando Sto Tiltando male Contro sto coglione Oh Crepa Mamma mia Che fastidio Ah Moco Così cominci Bello Penso di averla mai vista Molto bene Molto bene Raga Molto bene Quella Quando vedi che Aspetta Quella barra Dovrebbe essere rossa Che succede Molto bene Molto bene Molto bene Questo ottimo try Ma ne sono sicuro ragazzi Che sia più facile Di quello che penso La prima fase Ma proprio mi Imbanana il cervello Girare in tondo Per cercare di Colpirlo Legge di Saido Ha un buon try Ne seguono 5 di merda Esattamente Era spiedino Bravi Era proprio Spiedino E qui No no Mena la spada Tu Tu mena la spada Non ti preoccupare Questo voleva mia Zaghi Ok Credo Sì Alla gran Ok Che cazzo fa Vabbè Bello È stato bello È stato scenico E dai Con sta cosa Che gli devi stare Attacco in corsa Prova No Voglio Cancellare Disinstallare Questo gioco Il mio tempo Con lui È finito Ma è Ok Do Via Vai via Vai via Vai via Ok È la prima volta Che evito la fiamma Ragazzi Nella storia Dell'uomo Accidenti al Cristo Di colonnino Cosa sta facendo Qua Sta tiltando Anche lui Confuso Sì sì Non si capisce L'ha fatto dopo 40 minuti Stavolta Però bella Ok No Per Merda Ok Ah Pensavo mi prendesse Uh Bravo Ok No Eh lo sapevo io Bevo Ah Cosa Seconda fase Di già Oh no First pick Ah fu il tuono giusto Me l'ero scordato Mannaggia Niente seconda fase per me Non ora Devo riprendere il controllo Ok Ok let's go Eh perché mi faccio sempre fottere da sta mossa Yes Bravo Sacco di pattern Lo stronzo di merda Dai perché me ne hai fatti tre Sei una merda Ora No Però guarda Vabbè ci siamo eh ci siamo Eh sì esatto 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 Ho anticipato il roll avete visto Non ho ben capito ancora per il fulmine E mi sono fatto Fregare Da Dall'attacco Con il quale lui prima Alza la spada E poi la butta a terra Due volte Sì mi sposto ragazzi Così vedete le Estus Eccoci qua Adesso dovreste vederle Vai vai forte Non ti preoccupare Eh ovviamente Che fastidiosa Che fastidiosa Sta parte Mamma mia E questo è il problema Vero Mi fa arrivare Veramente incazzato In fase 2 Guardala Guardala Non si deve incazzare Uno Capisco cosa stia facendo Ok Ok ora si ho capito Ok No 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 Non ho detto niente Non ho detto nulla E' bello perchè Miyazaki Per farti capire Il mondo in rovina Vuole mettere Una delle boss fight Più belle E una delle boss fight Più brutte Insieme Comunque si E non devo smettere Di stare sotto Perchè se sto sotto Il collo Fa Un bordello Esatto Esatto Devo colpirgli il muso Proprio Esatto Perfetto Più brutto Perfetto 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 Ah... Bene. Bene, molto bene Molto bene, molto bene Molto bene Ci sono i 5 try di merda dopo quello buono, no? Sì Sì, certo Esatto Come dici tu? Io ragazzi non so che devo fare La mia testa oggi non mi aiuta Evidentemente dopo 15 ore di Game Awards Questa prima fase vuole irritarmi Fino in fondo Se vuoi per la prima fase Arriva il bonk di Phalax? No, no, no È una cosa personale E poi se ne va via nella seconda fase Così tu hai il nameless con più HP No, per carità No, ragazzi Che cazzo sta succedendo? Ok 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 È evidente Che la prima fase del nameless king Mi stia irritando oltre il necessario Oltre il necessario Magari la resina oscura è speciale per nameless Ma è un sacco di buff scemi da poter sfruttare contro la gallinaccia È vero Dovrei Cosa potrei usare? Il fulmine forse Esatto È un drago Prossimo lo tiro Allora che bella combo Via, 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 via Vattene via Ah no Aspetta Questo è il fuoco Quando gli devo stare sotto Non gli sto sotto Vabbè Sbagliato Sbagliato Ok Qua ci metto un quarto d'ora prima di scendere il ragazzo Si prende il suo tempo Ok Questo è Il tra è buono quindi Molto bene No Stronzo Oh Ok Bravo Bella 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 Così mori allo stordimento Eh Il mio Sento eh Bravo Pensavo di farcela Eh sì In avanti In avanti lì Sì sì Bebi Bebi È andata È andata bene Quasi due Quasi due Yes Sono stato fortunato io Con il suo pattern d'attacco qua Chidino Tronzo eh Quanto mi manda fuori fase Quando fa quel terzo attacco Bastardo di merda Vai sì È questo Voglio io Bravo Però dai Vai Bravissimo Ho capito Spacing Spacing Sì Ok Ok Bravo Bella Ok Bravo Esatto esatto Sfruttale Sfruttati che hai Non mollare Cammina Bastardo Vieni Fai finta che sia l'inizio della fase 2 Bella così Bella La bevuta Ciao coglione Ciao coglione Salutami al tuo padre Ciao coglione 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 terza fase lacrime di sangue no ok oh si è aperto il puntone eh qui si legge però eh certo certo che si legge allora la boss fight contro lui era pornografia comunque sono contento si si la fase iniziale non mi è piaciuta per niente devi giocare con il target del gioco e questo gioco ha un combat system talmente bello che non puoi fare sprecarlo così gioco di levette ma le schivate che devi fare con lui il modo in cui puoi danzare insieme a lui è bella la boss fight antropomorfa più bella finora bella 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 mi chiedono di chiederti cos'era Soler in che senso c'è qualcosa che mi manca ancora praticamente ti ricordi quello che hai detto sulla community quanto fosse un mistero la rincarnazione e tutto no si esatto c'erano tante teorie certo io Soler era trattato come il folle innamorato di un sogno eccetera però io praticamente all'epifania di ciò che avevamo abbattuto mi sono emozionato ho fatto cazzo Soler era un merdone cioè nel senso che non contava un cazzo esatto esatto e allora era un merdone vabbè sono d'accordo con te direi che F scrive sulla pagina G era un guerriero virgola Soler era un merdone punto e qui finisce il capitolo dell'anima oscura la M word esatto la M word re senza nome si ragazzi si succederà mettetevi l'anima in pace no this esatto no this cioè siamo qui potrebbe esserci Di tutto Gwyn Il nano furtivo Il Dark Souls Il blabbo perfino Il trailer di Spyro Quindi noi cerchiamo tutto Sul trailer di Spyro ragazzi Spero di aver rievocato vecchie memorie Beh il blabbo c'è già stato Scusa il Il trailer di Spyro Ah no ok Ah ma qui era dove stavo facendo il salto cheat Adesso facciamo il leggino Voglio solo controllare che non ci sia Nulla di speciale qui Ok E andiamo Leggià Anima del re senza nome Un'anima corrotta Infusa con la forza Usala per acquisire parecchie anime O trasferisci Per estrarre la sua vera forza Il re senza nome Un tempo Era un esperto ammazza draghi E quindi direi che ha combattuto nella guerra Lo scopriamo qui Esatto esatto Era quello che attendevo tu scoprissi Lo scopriamo qui Perché non poteva essere ammazza draghi Se i draghi erano già morti Prima di sacrificare tutto Per allearsi con gli antichi draghi Sacrificare tutto Ovvero anche il suo posto indirettamente Da re di Anor Londo Esatto Quindi La domanda che dovremmo farci è Cosa gli ha fatto cambiare idea? Posso dare una risposta? Certo Il grande vuoto Possibile Lui ha trovato per primo il drago È assolutamente possibile Quello Lo scazzo Il semplicemente voler esplorare qualcosa di nuovo Che poi lo ha convinto Assolutamente sì Però gli apostoli erano lì al lago cinereo Tu immaginati Aver sconfitto i draghi E poi invece trovare un cucciolo Eh esatto esatto Cioè Per quanto ne sappiamo è Dragon Trainer Sì ma poi Esatto e poi Per quello che ne sappiamo Comunque Il dio della guerra È sempre stato raccontato Come qualcuno che veglia Sui propri guerrieri Cioè Lui è comunque un padre È comunque qualcuno Di Buono Nei confronti Di chi ritiene Un guerriero Quindi figurati un drago antico Secondo me G ha trovato Ha trovato il cucciolo di drago Del lago cinereo E Si è Affezionato a lui O comunque Si è pentito Di aver Fatto un genocidio Perché è un genocidio Quello di Gwyn È estirpare una specie Dal mondo Assolutamente Quindi si Dragon Trainer 4 Esattamente Che bella fight E ragazzi Purtroppo Ormai sono Scimmiato Ho bisogno Del Di Dark Souls 0 Dragon Souls Bellino Dragon Souls Ragazzi Si che poi non ci sono Però va bene Petizione Petizione Beh considera che Il motivo per il quale Dark Souls Prepare to Die Arrivò su PC È per una petizione Ah si? Eh si Benissimo Petizione Dobbiamo Creare Dragon Souls Che ovviamente Non sono le Souls Di Drago Ma di quelle che li hanno ammazzati Basta Dragon Slayer Souls Dragon Slayer Vabbè immagino ragazzi Di scoprire l'acqua calda Nel senso Secondo me anche Dai questo è un muro erosorio Allora Miyazaki Di merda C'è anche un messaggio Quindi oggi decretiamo Se Te sei un grande E la tua community anche O siete entrambi delle merde Va bene? Qui Davanti a questo muro Perché non si scherza Con il figlio di Gwyn Cioè Hai appena fatto questa fight Ti meriti un premio Ragazzi La run Finisce qui È stato bello Sono stati dei mesi Veramente Intensi Grazie mille maestro Di avermi accompagnato In questa Esplora Potrebbe esserci un premio Non desistere Ma qui c'è qualcosa Ragazzi Guardate Level design C'è qualcosa Guarda c'è anche la scala Esatto Esatto Ma dov'è? Ma mi sa che quella Era la parte che abbiamo Già esplorato Più o meno Eh mi sa di sì Mi sa che ci siamo già stati Perché vedo la colonna Secondo me sì In ogni caso ragazzi Quel coso era palesemente Un muro È stato bello Ah ma non ho frecce Al mio arco E Greyrat è morto Probabilmente Quindi Non l'avrò per sempre Però Sento il puzzo Di retcon Da qui Mamma mia Maestro Ha cucinato Del retcon Stasera Immaginatevi Sabaku Vestito da cuoco Con le presine Che arriva E mi porta Ecco qua Caro il mio allievo Un po' di retcon Sì Per fortuna Sì Tu Maledetto privilegiato Che sai già Che è un retcon Che non dovrai morire Impazzire Esatto Esatto Allora Elmo Dell'ammazzadraghi Io ve l'ho detto Per me è morto qui In questo In questa arena Elmo dorato A forma di testa di leone Appartenuto a Ornstein L'ammazzadraghi Dell'era degli dèi E permeato Dal potere del fulmine Si dice che In un mondo Senza draghi Il guardiano Della cattedrale In rovina Fuggì da queste terre In cerca Del suo re Senza nome Completamente Diverso da quello Che mi aspettavo Quindi Ornstein Omega retcon Cioè Non solo Non è A difesa Di Anor Londo Ma è Delle milizie Del re Senza nome Non il più fedele Dei quattro cavalieri Ma un traditore Allora Diciamo che si può Interpretare Nel senso che Poi troveremo Un certo miracolo E faremo qualche Altra congettura Però Il dio della guerra Era sicuramente A capo Era il capo Dei capi Per quanto concerne Qualunque forza Ostile Di Anor Londo Ornstein Era quindi Plausibilmente Il suo vice E capo Dei quattro cavalieri Di Gwyn Quindi c'era Questa gerarchia In cerca Del suo re Senza nome È ovviamente Molto tendente Alla fedeltà Nei suoi confronti Il suo Non del re Senza nome Se no sarebbe stato In cerca del re Senza nome Esatto Sei così anche in JP Che mi dite Guarda In realtà In JP Vai tranquillo È proprio così Ok Omega retcon È corretto Molto Gaio Ma no ragazzi Non ho percepito Della tensione Sessuale Tra Ornstein E E G Credo ci fosse Proprio Un rapporto Di estrema Fedeltà Del resto Qui ci stanno Dicendo Che probabilmente Non solo G ha partecipato Alla guerra Contro i draghi Ma era il capo Degli ammazzadraghi Quindi Ornstein Era praticamente Il numero due Del suo esercito E Avranno combattuto insieme Avranno rischiato La vita insieme E Ornstein Quando ha visto La mala parata Sarà voluto tornare Da lui Questo significa Però che Dei quattro Cavalieri Insomma In realtà Non se ne salvava uno Forse Gaff No Sì Forse Gaff Gaff Fino all'ultimo Esatto Però Tutti gli altri No Cioè Secondo me Ornstein Ornstein Era lì Solamente Per G Non gli importava nulla Del resto Per quanto ne sappiamo G è stato il suo maestro Visto che entrambi Utilizzano affondoni Ma non solo Ma non solo La lancia di Ornstein È molto ispirata Alla lancia spada Del re senza nome Quindi Secondo me Ornstein era Mi piace leggerlo Come un allievo Un allievo Che poi Lo ha seguito qui E quindi in realtà È morto Per mano Gli invasori Non per mano È morto Diciamo che Diciamo che ci sono Allora Sei dinanzi Fra sei ovviamente Dinanzi Uno dei luoghi Più speculati Della storia Dei souls È chiaro Perché la gente È andata di matto È disperata 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 Quindi Una delle teorie Più gettonate Che era tanto In realtà Assolutamente Non così condannabile Ma che poi Infine purtroppo Non regge Non funziona Nelle altre descrizioni Dal giapponese Così via È che la Creatura draconica Fosse Onstein Trasformato In drago Esattamente Esattamente No Infatti no Infatti no Assolutamente no Però Era comunque Non condannabile Perché ti aggrappi Alla disperazione Non solo Anche perché Perché ti parlano Di gente Che diventa drago Per tutto il tempo Esatto Esatto Purtroppo non è così Non c'è soluzione Logica Qualunque cosa tu faccia I giapponesi Hanno alzato le mani Già perché gli interessa Meno alla loro Ma poi hanno detto Raga ma che cazzo Le frega E ho capito Quindi a livello Di forum E speculazioni Giapponesi Considera che Se vogliamo parlare Della cosa più plausibile A questo punto La lasciamo così com'è È che Fa cacare Perché allora Io ho discusso per anni Con gli appassionati Per anni Il discorso era Eh ma non è detto Che possa essere Ornstein Quello di Anor Londo Nell'uno Non è vero Un altro Ornstein Cioè Un altro Sì ma no Non si può All'anima Ti lascia la sua anima Fine Quando sconfiggi Tra virgolette Quando cancelli Guinevere Non ti dà niente Quindi le illusioni Ah ok ok No Ma poi se no Che cosa assorbe Ma se no Avrebbe creato L'energia infinita Guindolin Avrebbe creato La possibilità Di Creare un fantoccio Ucciderlo Prenderne l'anima Fare un fantoccio Ucciderlo Prenderne l'anima No Non è possibile Quello era Ornstein Vero Esattamente Quello era L'Ornstein Vero L'unica cosa Che Te la metto Io Non voglio Definirla più Di headcanon Anche se è l'unica soluzione Per rispetto alle regole Del mondo Di Dark Souls E che comunque Conduce il discorso A un Inconfutabile Redcon E basta Perché è un Redcon Fine È che Quello che è stato fatto Cosa già vista Già costruita Ma mi fa di un cagare Che non ti lascio Neanche descrivere È che Quello che si va A combattere Adan Orlondo È Un golem Con un frammento Dell'anima di Ornstein Fine Non c'è altra soluzione Possiamo provare A inventarne una insieme Ma è Inventare Sulle nuvole Continua a essere Incoerente Con Il modo in cui È costruita narrativamente La boss fight Con i due Che si assorbono a vicenda Se non si assorbissero a vicenda Potremmo raccontarcelo Nonostante Sembri quello che è Un retcon Potremmo dire Vabbè era un golem Ma si assorbono Sembra Cioè Allora a quel punto Dovresti dire Che un Il comportamento diverso Il comportamento diverso C'è Ornstein che posa la mano Sul corpo di Smough C'è il modo in cui Entra nell'arena Uno potrebbe dire In Dark Souls 2 Anche e soprattutto Si è visto che le anime Possono convogliare Emozioni e ricordi Sti cazzi Non va bene Non è bello È brutto Basta Il fatto è questo Miyazaki Non è il fan Che va a fare Queste pippe Ha visto Dark Souls 2 Da supervisore Ha voluto fare Gli hanno detto Di fare il sequel In un anno Ha ricostruito In un mese Praticamente Tutta la lore Per il sequel E Ornstein Gli è venuto male Te la posso buttare Sto provando a fare Cagate Ok E bravo Sto provando a giocare Ok Potrebbe essere passato Da Norlondo Mai qualcuno Di alleato A G Al figlio di Gwyn Perché che cosa voglio dire Qualunque guerriero del sole Aspetta Dopo gli eventi Di Dark Souls 1 Com Ah In che senso Scusa Perché Che l'unica cosa Che mi viene in mente Visto che non troviamo Il corpo di Ornstein È che in realtà Ornstein Era in cerca Del suo re senza nome Non l'ha mai trovato Noi lo ammazziamo nell'uno Qualcuno ne raccoglie L'armatura E la porta A G Ma in realtà Non si sono mai incontrati Eh ma è la descrizione Fra La descrizione dell'armatura È lui che ha Fuggito da queste terre Hai ragione Però Non solo Non solo Non solo Ti dico Ti ricordo un altro frammento Di Redcon Smough e Cavaliere Hai ragione E Smough e Cavaliere Solo perché Ornstein Se n'è andato Gwyndolin Ha reso Il capriccioso Assassino Che ride Mentre ti spappola Smough Perché Ornstein Se n'è andato Cioè che Smough fosse diventato Cavaliere Ci può anche stare All'epoca di Dark Souls 1 Perché ha le statue Ad Anor Londo Ma non viene descritto così Perché comunque non è importante In Dark Souls 3 Diventa importante Per giustificare La storia di Ornstein E non è l'unica E non è l'ultima O l'unica descrizione Che leggerai Della storia di Ornstein Quindi Ah ok Sarà altro Eh sì Eh sì Eh sì E allora Smetto di provare a fare L'avvocato del diavolo Perché a questo punto Ti avrei detto Si dice che Magari una diceria Non è del tutto corretta La storia E quindi È un mito Smough viene definito Come ultimo Cavaliere Rimasto da Anor Londo Perché Ornstein Se ne è andato Eh cicci Ce l'abbiamo l'armatura No perché non l'abbiamo mai comprata C'è la franca Sì ma c'è il martello di Smough Se vuoi Ce l'ho io qui Se non l'hai depositato Sì Ah io non ho depositato un cazzo Come solito mio Perché non capisco niente Allora aspetta No L'ordine dell'inventario È un parto Non ti preoccupare No In Elder Ring Andrà fatto Perché non avrò te Così esperto Quindi Sì no Dovremmo fare pulizia Oppure il contrario Dovremmo tenere tutto Per rileggerlo Quando vogliamo Dovremmo togliere le cose secondarie No hai ragione Punto Hai ragione Punto Un martello contorto Appartenuto a Smough Ultimo dei cavalieri Rimasti a guardia Della cattedrale in rovina È palese un Fai finta di non averli mai Combattuti insieme In realtà erano loro due Magari Nella sua testa Ha pensato In maniera superficiale Si giustificheranno Che uno dei due Era un'illusione Però il modo in cui funziona La fight Non lo permette Sì ma non lo permette Capisci Purtroppo è una cicciata Cioè proprio E se no te l'ho detto Se no hai creato L'energia infinita Cioè allora Tutto sto problema Di vincolare Non esiste Gwindling Si mette a fare robe Poi le ammazza Raccoglie anima Le butta in fuoco Fa le illusioni Con le anime infinite Eh capis Le butta nel fuoco Fa il Konami code L1 R1 L2 Su giù Destra sinistra Su giù Destra sinistra Toglie le stelline Però No Non si può fare Non si può fare Purtroppo no Purtroppo no E infatti Il paradosso Così spezziamo una lancia E diamo una carezza Nonostante l'errore Nonostante l'errore Sia principalmente E inizialmente Suo E mi sto tenendo Un'incazzatura Appassionale Che non hai idea Ma tu penso Ci sia abituato Fai i lore su Pokémon Sweet summer child Ecco ti dico Paradossalmente Se Miyazaki Non faceva il geloso Perché chiaramente Ha fatto L'offeso In questo O meglio Chiaramente Ci sto scherzando sopra Però ha voluto Correggere Rimescolare Anche quelle carte Se La cazzata Di Einstein Rimaneva Quella Dello scuro Adade Funzionava meglio Perché avevi Navlan Come speculazione Per giocare Ha preso L'armatura E lo ha corrotto Ricoperando l'anima Dal ciclo Del cazzo No Va bene Va bene Però no L'ha dovuto riscrivere E non ha sistemato niente Ha complicato le cose Hai ragione Sì 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 Purtroppo È andata così E vabbè Ce lo facciamo andare bene Uguale No ma infatti A questo punto Ricanonizza La storia nuova E prosegui pure In quello che adesso conta Ossia Cosa si fa con l'anima Del recensione Allora posso dirti una cosa Aspetta Ma devo andare avanti Vedrai Vedrai dove vai Vedrai dove vai Ok Questa è la strada giusta No Sì sì Sto tornando indietro No Sì Sì stavo tornando indietro Vedrai Vedrai Cosa sta per succedere Ragazzi Perché siete così tanti In live No beh Questo sarebbe successo Se non avessi già indovinato Che era il primo genito Perché praticamente Magari alcuni ricordano La mia storia Nel senso che Tu dovresti vedere L'appassionato Nel 2016 Dopo anni Dark Souls In pausa Considera Che io sono stato Ti dico Questa è una cosa Più dato lo show Con i miei ragazzi Quando faccio i flex Egocentrici Egomani Capricciosi Dobbiamo sempre farli Noi siamo degli egocentrici Egomani Però Permettemi di fare L'antipatico Ma sono tornato indietro Ti racconto Ti racconto un piccolo aneddoto Poi non ne parliamo più Perché è proprio antipatico Da parte mia No Però a volte Parti del pubblico Sono antipatiche Quindi Ma quelle piccole nicchie Tossiche esistono Ok All'epoca Allora Nonostante io spesso Negli anni Ormai non più tanto Ormai In realtà fortunatamente La cosa è cresciuta così tanto Io sono cresciuto così tanto Non parlo di numeri Parlo anche proprio di Tempo di lavoro E di contenuti diversi Che hanno dimostrato Certe ovvietà Che non erano ovvietà per tutti Ma erano ovvietà per niente Che non succede più questa cosa Però Io ero il fanboy Di From Software Poi è uscito Dark Souls 2 E nessuno se ne ricorda E anzi mi odiano Perché io sono quello Che invece ha fatto odiare Dark Souls 2 in Italia Secondo tanti Ok È pur vero Che la mia voce Può avere un'influenza E quindi alcuni Fanno i pappagalli Non lo metto in dubbio Alcuni magari sono piccoli Crescono e sviluppano loro La capacità critica Crescendo Però al di là di quello Che può essere il capriccio Delle community Che soffrono del fatto Che Dark Souls 2 Non è il migliore di tutti Secondo tutti i loro amici Io comunque Fanboy non ero Dark Souls 2 Anzi è stato un po' Per me Un momento buio Al di là di tutto Bravo Però Dark Souls 1 è uscito nel 2011 Dark Souls 2 è uscito nel 2014 Il 3 nel 2016 Ok Praticamente Un anno dopo La B DLC Quando Parli quindi di distanza Tra La storia dell'1 E del 3 Devi saltare il 2 Perché il 2 è una storia Sì Ecco Quando si cominciarono a vedere Le prime Concept art Del Del 3 E del fatto che Miyazaki era diventato Presidente di From Software E quindi Director Anche di questo capitolo Io cominciai a dire Ok ragazzi Qualunque cosa accada Dark Souls 3 Vi dico questo Riprenderà Il canon E la storia Di Dark Souls 1 Non vedremo Un sequel di Dark Souls 2 Inteso come Main Main target Del world building Perché Miyazaki è un autore Sono giapponesi Non metterà Le mani in pasta Nel lavoro dell'altro Troppo E viceversa È il suo bambino Chiaramente Chiaramente Oddio la chat La chat se lo ricorda Oh mio dio Ma siete incredibili Vabbè Una percentuale bassissima Se lo ricorda Vuol dire che mi segue Non da tanto tempo Ma in maniera morbosa Non so se essere contento Ragazzi siete inquietanti Vi adoro Praticamente Praticamente Una delle prime Key art Che uscirono Fu quella di Lutlet Ok Ok C'era questa sorta di piccolo Pigmeo Questo piccolo uomo Sul trono E Un Google Esisteva una pagina Di Il sito ufficiale No Una pagina Di community Anonima Che faceva Una pagina Ok ok Il punisher Del content creator Oh Le conosco molto bene Quelle pagine Ok ok Perfetto Ma in realtà Erano stranamente Erano feroci Ma comunque sensati Solo che molto antipatici E Estremamente Anche loro In maniera un po' più Volgare e egomani Quindi cosa dissero Mike Sabaku Dice questa cosa Invece guardate questa immagine C'è il trono A volte dovrebbe proprio Uscire la testa dal culo Coglione No Ecco Sono streo Ancora il cazzo in mano Però Visto che avevo Una certa ragione Ok Comunque Comunque Era passato tanto tempo E tanti eventi Da Dark Soulsura Per me Che Miyazaki Sarebbe stato così esplicito In una componente Così centrale Del world building Era talmente lontano Dalle possibilità Che se tu ti guardi La mia blindera Ne quegli episodi Io ho sparato Delle teorie Ma neanche era Neanche era apparso L'eco Dell'immagine Del primo genito Di win Perché non esiste Non era neanche contemplato Dalle mie sinapse Neanche un po' E Il motivo per il quale Magari hai un pubblico Che sta crescendo Magari alcuni Si sono connessi E non ti hanno visto Indovinarlo la scorsa volta Cioè Perché io Andavo a leggere Le descrizioni E mo te lo dico Te lo spoiler Perché non conta nulla Ormai per te E lo vivrai in maniera diversa Ma è bello Vare le racconti In questo momento Poi magari ti andrai A sbirciare Cosa è successo Perché Una cosa che si vede Nella mia registrazione È che ho Un piccolo spasmo muscolare Cioè Salto sulla sedia Per spasmo Nel senso L'epifania quando arriva Mi ha fatto vibrare No? Mi ha fatto vibrare Perché ho aperto la descrizione Considera Cosa può essere questo Per un appassionato Dal 2011 In cui era più ragazzo No? Leggo E una cosa che fai Con l'anima Dice Il re senza nome Vecchio Dio della guerra Disse Io ho letto Ho letto Poi ho riletto Vecchio Dio della E lì ho avuto l'epifania Ecco per questo magari C'hai un po' di attenzione Ah quindi tu lo hai capito Direttamente Con L'anima Con la descrizione Con l'anima Hai avuto la conferma Sì 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 Perché Implicitamente Inconsciamente Sicuramente Parte di me Escrudeva anche solo La possibilità Cioè non poteva essere Cioè quindi anche tu durante la fight Non hai capito No 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 Io avevo La testa che scoppiava E dicevo Ma perché Usa i colpi L'energia di Queen Perché ha la corona Ma che cosa significa Che cosa può Cioè non potevo assolutamente Io Era proprio Quasi clinicamente Amnesia selettiva Perché non Non potevo Non potevo Tra l'altro Tra l'altro Avrei Sai di cosa avrei Avuto paura Io Se avessi vissuto La tua blind run Nel tuo tempo Di una reincarnazione La Dark Souls 2 Avrei forse pensato Eccolo il Miaz Che cerca di Prendere per i capelli La reincarnazione Il re di ferro Ma farla un pochino meglio Probabilmente avrei pensato Noi eravamo arrivati qui E tutto Quello che abbiamo visto Fino ad ora Per noi era un'aggiunta Anche abbastanza Della serie Madonna Miaz Che sei un creativo Però se fai un sequel Per favore Per favore Frendiro lineare Una cosa che abbia senso Rispetto al primo Per favore Non tutte cose nuove Bello ok Windling Fantasca Emozione Però qualcosa Che abbia Tu invece hai visto Che è tutto lineare Ogni cosa è semplicemente Una linea continua Solo che tu hai Delle basi In Dark Souls 1 Che Dio Guarda Dio solo sa Eh no certo Che cosa rappresentano Per una blind run del 3 E quindi Ti capisco Ti capisco assolutamente Comunque mi chiedono Se poi vorrai mai Darmi una clip Di questo moment of being Ce la guardiamo in live Ma è tutto nella blind run Eh si però Non so dove Cioè io Se mi metto a cercare Su youtube Dark Souls 3 E Ho tanta paura Quando E come vuoi Io ho gli episodi a memoria Non ti preoccupare Ho questo problema Ok Se mi prepari Allora un link Qualcosa La guardo volentieri Ma dici oggi? Sì anche Perché no? Eh vado Vado a preparare Aspetta Ok Allora intanto Io devo andare via Devi andare a fare Nick Shrine Non c'è più un cazzo Andiamo a fare Il ritorno Il ritorno Leggi le cose dell'anima Ragazzi Devo andare prima A fare Un secondo Lo sta facendo Non preoccupatevi Lui lo farà Con enorme amore Anzi facciamo una cosa divertente Fermati Sì? Visto che l'epifania è nelle descrizioni Queste Te lo faccio Te lo faccio vedere nel video Le descrizioni Allora Cioè queste Queste che starei per leggere Altrimenti Sì esatto Ok Allora Allora Guardiamoci questa cosa Ti linko Ti linko Tra l'altro Adesso su discord Facciamo un piccolo shout out Sai che Poi è carattere Carattere Quello che fa il content creator Sulla piattaforma Tutto è assolutamente Libero Nell'analisi E nelle decisioni Certo A livello soggettivo Del content creator A me Quando ho fatto in un certo modo Il freebooting Piace un po' Anche a me E E tutti questi ragazzi Esatto È un momento di perfetto tributo Proprio quel che facciamo Io adoro Ma io mi aspetto Io mi immagino di avere Qualche anno in meno Di non essere in questo lavoro E dire Però a me piacerebbe Costruire qualcosa Come noi trasformiamo Del contenuto videoludico Al di là delle recensioni Critiche e analisi Quando noi costruiamo qualcosa Questa stessa rune Trasformativa di Dark Souls Ecco Che qualcuno trasformi Qualcosa che ho fatto io Mi piace davanti E c'è questo ragazzo Che Ha fatto In teoria Il freebooting Peggiore che possa esistere Perché è proprio Prendere tutto No In realtà È una meraviglia Ciò che ha creato Compilation Le mie blind run Hanno avuto anche un po' Di successo Quindi era Era il primo Goober Era Non no Goober no 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 Non ha niente a che fare Con Goober Questo ragazzo Goober È estremamente Moderno Come Montaggio Creator e freebooter Lui fa qualcosa Che faccia Che faccia ridere Mentre io Per il rapporto Che avevo con la community Avevo anche spesso Un meccanismo Ragazzi che succederà Che succederà la stessa cosa Con leggende Pokémon Archeus Ormai mi hai traviato Da questo punto di vista Io so che tu Ormai Nelle live di Isaac Dici l'exploro E va bene Quella è la mia eredità E la tua Mi ricordi flashback E poi c'era la boss fight E il post boss fight Quindi adesso ti linko Adesso spero che YouTube Faccia lo smart Poi se non lo fa Quello che succede Sarà che Ti dico il minutaggio Dovrebbe essere Comunque Io sto leggendo Che c'è anche un villain Poi mi spiegherai Tutta la lore Freebooter villain Non è un villain Poverino Non è un villain Ragazzi non fate i cattivi Non è un villain Indipendentemente Dai piccoli errori di vita Non è un villain Anzi è stato un grande artista Lo è sicuramente ancora Però Non fatemi incazzare Allora Ti mando su Discord Leggendo mezze frasi Ragazzi Mi sto immaginando di tutto Va bene Allora È bello essere stato all'oscuro Di tutto ciò Ho perso la festa Mandature Esatto Ho anch'io la mia lorno Allora Come tutti noi Adesso Facciamo così Ti ho mandato Ecco Io ti ho mandato Il famoso magico link Con il minutaggio Se YouTube Fa il bastardo No ok 24 e 31 Sì sì Sei dove me Ok Puoi andare Da qui in poi Eri un papa Eri Sullivan Ero È la corona dorata Io avevo un setup Ancora non era completo L'ho completato In New Game Plus Praticamente Ok Però sì Il design del mio protagonista Aspetta che mi sposto In grafica Loro ancora non mi vedono Però Se no sono esattamente Sulla tua facecam Capito Ok Sono pronto Quando vuoi Quando vuoi Puoi fare 3, 2, 1 Sì esatto 3 2 Aspetta devo fare una cosa Ok fatto Stavo sistemando la grafica 3 Ok 2 1 Via Il re senza nome Era un tempo Un esperto Ammazzadraghi Prima di sacrificare Tutto Per allearsi Con gli antichi draghi No zitto zitto Era molto vicino A Gwyn Molto vicino a lui Gwyn Divise La sua anima Che fosse Una delle sue componenti Ah Tu all'inizio pensavi Che fosse Un pezzo Dell'anima di Gwyn Sì E non era su un cadavere Corazza dorata A forma di leone Appartenuta a Einstein L'ammazzadraghi Dell'era degli dèi E permeata Dal potere del fulmine Si dice che in un mondo Senza draghi Il guardiano della cattedrale In rovina Fuggì da queste terre In cerca Del suo re Senza nome Spada ricurva Infusa con il potere Del drago Delle tempeste Il re senza nome Alleato dei draghi Che è una figata Il fatto che Una cosa così simile A Gwyn Sia l'alleato Dei draghi All'Othric Però è un drago Delle tempeste Quindi Non è Sì È una specie diversa È Possibilmente qualcosa Di nato Successivamente A cicli Che è una figata I cicli Xaido Immagini Hai visto Non lo sapevo Te l'ho detto I cicli Non esistono i cicli No lo so Però Anche a me Probabilmente Sarebbero venuti in mente Eh lo so Anche io avrei pensato Alla reincarnazione Mettendomi nei tuoi panni Ragazzi Io ho il volume a cannone Non so perché Non sentiate Non so cosa dirvi Io ho Vi faccio una foto Del mixer Non si può alzare Più di così Non ho mai avuto Il volume così alto Però Adesso A quanto stai A 25 e 49 Aspetta Mi rimetto A 25 e 49 Anche io Ecco No Mettiti per favore Un pochino più indietro 15 25 e 22 Ok 25 e 22 Ci sto Vai Vai Dimmi tu quando Vai vai Aspetta Scusami 3 2 1 Via Spada ricurva Infusa con il potere Del drago Delle tempeste Il re senza nome Alleato dei draghi Che è una figata Il fatto che Una cosa così simile A Gwyn Sia l'alleato Dei draghi All'Othric Però è un drago Delle tempeste E beh Non è Sì È una specie diversa È Possibilmente qualcosa Di nato Successivamente A cicli Che è una figata Comunque il re senza nome Fu legato per tutta la vita A un drago Delle tempeste E ne rivendicò L'anima Quando la creatura morì Pam 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 Ecco Tali erano gli usi Durante l'era degli dèi Spada lancia Da ammazzare Metti pausa per favore Sì 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 Tali erano gli usi Durante l'era degli dèi Questo ci spiega Che Praticamente esatto Ornstein e Smaug In realtà mettono O Smaug Mettono in piedi Un rituale Dell'era degli dèi Esatto E a maggior ragione Golem il cazzo Però ecco Ovviamente È proprio Una rappresentazione Di qualcosa Che avveniva Durante L'era del fuoco All'apice di Anor Londo No? Eh cavolo Comunque bellissimo Io vedendo questa cosa Vedo da cosa mi hai salvato No guarda No 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 Tu non lo sai Ancora non lo so No no Non è che troverai altro Tu Tu puoi Puoi immaginarlo Ma tra Dark Souls 2 Dark Souls 3 Quello da cui Ti abbiamo salvato E quello che stai vivendo È Puoi capirlo Bene Però non lo vedi In quell'espressione Perché era troppo bello Quello che stavo giocando No 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 Certo Me lo immagino Vado Allora sono 26 e 0 3 Ok 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 3 3 2 Ok 2 1 Via Sale all'era degli dei Utilizzata nella caccia ai draghi È la prima delle lanci a croce Che possono fungere da lanci O da spade Questa spada lancia Utilizzata dal re senza nome Divino cacciatore di draghi È pervasa dal potere del fulmine Di cui egli Era 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 erede Eccolo In scala esattamente Eccolo Sì ma è Eccolo 45 Erede Io pensavo all'anima Ok ok Evoca una tempesta di fulmine Il re e dio della guerra Ah Attenzione Smise di cacciare i draghi Ne domò uno Portandolo con sé In ogni battaglia Che è con lui Mi sto sentendo Dici che è lui È lui È lui È lui È lui Vabbè C'è Boom Così Devastato Pulisci i miei occhiali Un secondo Stavo sudando Intermette così In una frase Spegniamo il pc Va la serie è finita Oh cielo Così Per chi sa ascoltare Per chi sa scoprire Per chi ricorda Per gli appassionati Per chi conosce la lore Per chi la sta scoprendo Ah ecco Da qui la citazione Ok Sì Ecco perché gli assomigliava così Ecco perché senza nome Ecco perché senza nome Perché gliel'ha tolto Ed ecco quando l'hai detto Ok Gwyn aveva tolto il nome Dal figlio L'aveva cacciato E desiliato Ecco Altra cosa importante Eh Vabbè Già Tu mi hai sottolineato All'epoca Il fatto che gli avesse tolto il nome Sì Lo so Devo vedere altro qui Beh guarda Allora Dimmi perché se c'è roba Not worth e continuo Allora Ho messo in pausa però Perché volevo Spiegarti che ora capisco Anche perché io ci sono arrivato subito Qui si vede che tu Ripensi a quel dettaglio Che avevi perso Il fatto che gli avesse tolto il nome Esatto Mentre tu Gli hai Cioè mi hai da subito Sottolineato L'atto del togliere il nome Perché ricordavi La tua stessa epifania Altro motivo Per il Ok Ho fatto anche un'altra cosa Allora Ora ti ricorderai Qui capirai I piccoli momenti Di preparazione Ma Io durante la blind run Di Dark Souls 1 Che hai fatto con me Ho dedicato Un intero episodio Davanti a Kath A parlarti Del Primo genito di Gwyn Contestualizzando Il fosse che fosse rimasto Anno da Norlondo Che era il re Che era scappato Che era stato desiliato Dopo la morte di Gwyn Non da Gwyn Ho fatto Un percorso Che desse Una Enorme Importanza A questo personaggio Quando in realtà Una volta Superato a Norlondo Hai letto tre descrizioni Di un incantesimo Non se ne parla mai più Cioè tu hai avuto Sempre Questo personaggio Come molto importante Sì sì Centrale Epico Legato alla Perdita del nome La perdita Della Deificazione Un sacco di roba Guarda Quello che Secondo me Ti posso consigliare Di fare Prima di spostarci Altrove giocare Mi dicono che c'è Una frase importante Tra poco Quella di Soler Ah Soler Era un merdone Sì Però A livello di Veraciccia Che ci piace Credo di non sbagliarmi Ragazzi Correggetemi se sbaglio Ma Ti posso guidare A una descrizione Di un incantesimo Che è un premio avanzato Sì esatto Esatto Questo leggilo Perché non lo otterrai In questa run Allora Vai a 33 E 17 Aspetta Devo sentire Soler Era un merdone Aspetta Ah ok Dimmi dove sei allora Che lo sento anch'io 28 Va bene Vai Fermo 3 2 1 Via Soler Era un merdone Eccolo Soler Era un merdone Soler Sempre Il cuore Sono d'accordo Con Lara Soler Un ruolo 2 E senza accorgerci Questo è meglio Cioè Beh Molto meglio Sono d'accordo Allora Mai Esatto Mai A 30 3 3 3 E 10 Dai così Abbiamo un po' di coda Un po' di testa Ok 3 Questo è il minugale plus Ok Ok Questa è Great lightning spear Il successivo È un miracolo Molto importante Che non otterrà in questa run Perché è premio avanzato Di covenant Va bene Allora vado 3 2 1 Via La storia di padre e figlio Per quanto epica Rimane purtroppo Tragicamente non raccontata E persa Mentre Sacred Oath È ciò che causa Tanta confusione Negli appassionati Perché ci dice Questa è la storia Del primo genito del sole Il suo Ehm Primo cavaliere Il suo Faithful Il suo fedele Primo cavaliere E il coraggioso Ammazzadraghi Che li servì Entrambi E allora Viene da chiedersi Possibile Che Onstein L'ammazzadraghi La leggenda Di Anor Londo Il più grande cavaliere Di Lord Gwyn Primo lord Del suo nome Potremmo dire E Lord dei Tizzoni Primo vincolatore Del fuoco Madre dei lord Blah 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 E chi è Di questo altro Personaggio E appunto Fosse Sottomesso A un altro ancora A Soler o Bastora No Perché ti spiego Ho capito Metto pausa Aspetta eh Esatto Il first Allora Tu pensi che Soler Sia questo First night No Tutti noi Io blind Lo pensai La community scoprì Che la pensava come me Perché Il fatto che questa storia Era Raccontata Da una descrizione Che parlava di Multipli servi Di cui Il first night Essendoci Il fatto è questo Tu ottieni Il set Di Soler La spada del sole Vicino al All'altare Della covenant Salendo di grado Sono i medaglioni del sole Quelli comunque disegnati Similmente a quello Che faceva Soler Quindi Soler acquisiva Un'importantissima Lore Apparentemente Il problema È che Guess what Tradutto No E quindi Tutto questo nostro lavoro Era sbagliato Traduzione vera Allora Adesso me la sta facendo passare Ma il succo è Il succo è Che È sbagliata completamente La costruzione della frase E non c'era Questa gerarchia Di persone multiple Sottomesse A una A una coppia Semplicemente Il primo cavaliere Era Ornstein Non un altro personaggio Ok Ed era Il dragon slayer Che serviva Loro due Esatto No lui A lui Ora ora Mo te lo guarda Mo mi faccio passare Le spade sono tre Quindi sono tre individui Per forza di cose Sono tre individui Però adesso Ti faccio vedere Il giapponese Tu Ora possiamo mandare Ma ti passo la ciccia Torno in game O devo ancora osservare qualcosa No no basta Togli pure Ok Comunque bellissimo Le tre spade Acquisiranno valore E capirai tramite La traduzione giapponese Hanno ragione i ragazzi Comunque Stiamo vivendo In questa tempolinea Nella quale Il sabacu del presente E il sabacu del passato Si congiungono Per spiegarmi La lord di dark souls Incredibile Che bello Allora Rivato da Ludlet Per leggermi personalmente Quelle descrizioni Che hai già letto tu Ma per sicurezza Oh stai scherzando Ero concentrato lì Su quello che dicevi Tu Ma esatto Esatto Che comunque Era il bimbo del 2016 Disperato e appassionato Ecco Stiamo attenti Perché probabilmente E poi c'è anche il fatto Che stavi registrando una blind Sì sì Però ti dico Attenzione Stiamo attenti Perché non ci sarà il pregresso Non ci sarà il mischione Del primo capitolo Tradotto male È un casino Però Occhio dal Den Ring Perché dovremo tradurre Con attenzione Perché altrimenti È un pasticcio Ne so qualcosa Allora Spada lancia Da ammazza draghi Un'arma che risale All'era degli dèi Utilizzata nella caccia ai draghi È la prima Delle lance a croce Che possono fungere Da lance O da spade Questa spada lancia Utilizzata dal re senza nome Divino cacciatore di draghi È pervasa dal potere del fulmine Di cui egli Era erede E qui nulla da dire È il figlio di Gwyn Punto Esattamente Spada ricurva infusa Con il potere Del drago delle tempeste Il re senza nome Alleato dei draghi Fu legato per tutta la vita A un drago delle tempeste E ne rivendicò l'anima Quando la creatura morì Potremmo Quasi Provare a immaginare Che questo drago delle tempeste Sia il figlio Il nipote Del drago Del lago Cinerio Guarda Questo legame Sembra veramente Affettivo Esatto A livello di Headcanon Possiamo assolutamente Immaginarci questa storia Che mi piace molto Capito? Questa storia di Lui che trova Insieme agli altri guerrieri del sole Il drago nel lago Cinerio Lo accudisce Questo qui ha un figlio E poi eccoci qua Ma quindi il drago aveva un'anima Beh Sì Perché è un drago nato in questo mondo Esatto Tutto ciò che è nato dopo la prima fiamma Un'anima E proprio per questo dico Il nipote Di Il pronipote Del drago E È arrivata la traduzione Qua ti aiuto E poi ti do una chicca La traduzione Che Non sappiamo Password97 Se i draghi Si riproducono come dei mammiferi Anzi lo escludo Eh no Infatti Lo escluderei E soprattutto Quello che ha creato La prima fiamma Ai draghi È stata principalmente Appunto Una sequenza di discendenze Estremamente diverse Fra loro Ma sicuramente non sono mammiferi Ma proprio non esiste Semmai diventano vipari Ma anche perché Mammifero Vuol dire maschio e femmina E Eh sì Sono esseri nati nella non Nati Esistenti nella non diversità Quindi Il concetto di maschio e femmina Secondo me è molto lontano da loro E poi La cosa bella Cioè ci saranno Perdonami se ti interrompo Ci saranno delle modalità Grazie alle quali loro depongono uova Sì Ma non penso che ci sia la fecondazione Di mezzo Quindi No Si sono d'accordo Guarda ti dico Intanto Pensa Avviso che non potrei trovarlo Adesso senza fare cop Al fatto che il miracolo Della covenant Sia appunto Il racconto Del primo genito Che loro hanno costudito Però Loro sapevano Quindi Soler probabilmente Sapeva la storia Del primo genito Semplicemente Non ce la racconta Non è interessante Per lui è un Certo No Lui è ossessionato col papà Esatto In realtà Soler quindi potremmo leggerlo Come un guerriero del sole Che si pente del tradimento O che non Non lo ha mai seguito davvero Così ammaliato dal padre Che non Guarda secondo me Il magnificent father È il primo genito Non è Gwynn Ah Secondo te quindi Lui è in cerca Sì sì Perché Del suo condottiero Che è andato via da Norlondo Sì perché Il figlio di Gwynn Era Un padre per i guerrieri Del sole Era colui il quale Vegliava su di loro Era il dio della guerra Capisci Era lui il magnificent father E rappresentava Ha senso visto che lui era già erede del fulmine È vero Esattamente Esatto In giapponese Quel miracolo dice Questo è il racconto del figlio maggiore del sole Cioè Il primo cavaliere del re E del cavaliere Mazzadraghi È il miracolo più incredibile Per la caccia a queste creature In altre parole La terza spada È la tua che lo usi Certo Loro sono due La terza spada Sei tu che ti aggiunge all'incantesimo Perché lo stai utilizzando Cioè sono loro che ti aiutano Unendo le spade Mi torna Esatto Ed è il racconto del primo genito Ti dico La chicca Ti ci faccio arrivare Che arma hai eletto adesso? Spada ricurva delle tempeste Che è la spada Che nasce dal potere di quale anima? Quella del drago E che E infatti Tu stai Che ha assorbito Che ha assorbito Ed è l'unica anima di Dark Souls 3 Con cui fai tre oggetti Ah Perché è vero c'è anche questa Che carino Che super carino Miracolo del re senza nome Alleato degli antichi draghi Evoca una tempesta di fulmini Il re e dio della guerra Smise di cacciare i draghi Ne domò uno Portandolo con sé In ogni battaglia Questo miracolo Narra del loro profondo legame Oddio però Vista così? Eh Lo so È strano Perché in realtà Allora Il drago è un cucciolo Quindi Il drago di cui si parla Qui Non c'è più Secondo me Cioè Non posso pensare Che quel drago Che cavalcava Era forse millenario Troppo piccolo No? Guarda È totalmente fuori Purtroppo Dalla nostra logica O soluzione Però sono d'accordo con te Il racconto che possiamo creare È libero In questo è interpretabile Però mi piace molto L'idea Che quello che comunque Ha raccontato qui Sia molto antico Cioè Sia non molto antico Ma legabile A una eredità Dell'antico drago Cucciolo Sì sì Poi ovviamente Quello che ha domato È Il re delle tempeste Però Boh Purtroppo qui anche Quello che ha domato Per ultimo È il re delle tempeste Non sappiamo Se ne ha domati altri In realtà Eh Eh sì La descrizione dice Ne domò uno Eh però sai Quello è il mito No no ma infatti Esatto È il miracolo Che parla della sua storia Ma poi è andata avanti Quella storia post miracolo Quindi Non lo so Sì sì Quanti anni pensi Che abbia quel drago Ora non ti credo L'esatta età Però non sembra Un drago anziano Quello che cavalla No Non sembra un drago anziano In realtà Però sai Che ne sai A meno che il drago Morto nelle montagne In realtà Non fosse un drago abbattuto Ma il primo drago domani Domato da lui Quindi la vetta Dell'arcidrago Lui si alleò Ai draghi antichi Si chiama vetta Dell'arcidrago Perché è la vetta Della montagna Dove riposa Il primo drago Che domò Quello sì Guarda Che lui Che la vetta Sia una sorta di mausoleo Ci sta Assolutamente Si visto anche Come c'è il rituale Di meditazione Dinanzi ad esso E così via Però Qui è Qui è Diciamo Dal cuore del fan Quello che vuole decidere Se volessimo fare Veramente Una supercazzola enorme Ok Che mi piace Come ed canon finale Si Il drago che ha domato È Il drago Che è nella montagna Ha avuto un figlio Nascosto Nel lago Cinerio La parete illusoria Che Firenze Tira fuori È una parete Per proteggere il drago Dopodiché Succede Quello che succede Il nipote Il pronipote Di quel drago lì È quello che Il re delle tempeste Per io Sì Vado Così Cercando di unire il tutto Non credo abbia Contraddizioni Quello che ho detto Cioè chiaramente Se ne possono scrivere Altre 100 Questa è la mia Non penso che Nulla di quello Che abbiamo visto Contraddice E così ha senso Anche la vetta Dell'arci drago Perché quello che Cavalca lui Non è un arci drago Perché Perché dedicare A qualcosa che non c'è Esatto In giappone si dice Egli Divenne Eterno amico Di un drago Della tempesta Nel campo di battaglia Questo miracolo Deve essere la loro storia Quindi comunque Lui ha trovato lui Ci sono cavole Però Però Quando Come Perché In che contesto Esatto Però in battaglia L'ho trovato Quindi durante la guerra Cioè meglio Durante la guerra Poi se l'è tenuto da parte O comunque poi ha coltivato Un rapporto L'ho rapportato E Dio solo sa Sì 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 Però eccoci Eccoci Mamma mia Tanta ciccia Tanta ciccia E io Ok Riascoltiamolo Seis it With Graziano Vai vai parla con l'ancello Devo darle le ceneri Degli arci Di cerca draghi E del prigioniero capo Le abbiamo lette entrambe Vero Allora Faccio il controllo Forse quella dei draghi No Ma penso di sì Sì No Stai E poi ricordati che c'è Carla adesso Giusto Ok Allora Palliativo No Decisamente no Ah cazzo Ora posso comprare Il pezzo di tita Poi E quello è il motivo Per il quale ti dicevamo Che gradità Dei giocatori Esatto La titona Aspetta aspetta Allora Fermo un secondo Oddio Sì Attento Aspetta aspetta Giusto Eh Aspetta aspetta No no Non avevo Non avevo visto Che stavi andando Ho saltato all'inizio Scusatemi No no Non è colpa tua Questo è Fa parte della lore Ci penso io Non ti preoccupare Io ti avrei protetto Ma questo è il dialogo Che nessuno Della community Di Dark Souls Ha mai sentito La prima volta Ok Questo è chiaramente Impossibile Cioè nessuno Non skip Andrei Dopo 30 ore di gioco Quindi Miyazaki Potevi pensarci un secondo E metterlo in una posizione diversa Che ne pensi Allora Te lo recupero subito Ah dicono che è successo Anche a te A tutti Tutti C'è un dialogo segreto Di Andre avanzato Ma È un dialogo Perché però Fermo Ora ti dico Si lega Al fatto che hai Incontrato Hawkfoot Sì sì Il Crestfallen Esatto Ha detto se n'è andato Ma ha lasciato questo Sono riuscito a leggere Purtroppo solo queste line qui No worries Adesso ti trovo Tutti i dialoghi Allora Fa ok Ti dice Ah sei tornato Speravo di rivederti Il Crestfallen Hawkwood Mi ha lasciato questa È cambiato Un bel po' Da quando ha lasciato Questo posto Quindi Con Sguardo cupo Mi ha chiesto Ridarti Questo oggetto Lui aveva meditato E se n'era andato Sì Visto che ora Ho completato la richiesta Che mi ha fatto Che vuoi Certo Questo Me l'ha ridetto Infatti Esatto Allora Intanto Facciamo Ciò per cui ero qui Bella Facciamo anche Il farronnino Dai se lo merita E Basta In realtà In realtà Mi sta bene così Quindi non compro nient'altro Non voglio nulla Aspetta 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 Archino L'archibugio Dov'è l'arco Eccolo qua 4 5 6 7 8 9 10 E si gode No non scuonderò niente Farò del pretty E farò anche del be careful Non preoccuparti Che cazzo faccio Ok Mamma mia Già godo ragazzi Già godo a quest'idea Ok Allora Andiamo a vedere che oggetti ha l'ancella Una cosa per volta Esatto Non scuonderiamo Mazzacchio data La barda Sciammezzalunarco Composito Bastone dello stregone Talismano Talismano Torcia Scudo di cuoio Dopo leggiamo l'erba ragazzi Una cosa L'ho detto non a caso Una cosa alla volta Finiamo quello che abbiamo cominciato Elmo di maglia Legione di non morti Cavaliere d'elite Elmo del favore Questo è l'Otrek Ma l'avevamo già letto l'Otrek Vero? Beh Armatura orientale pure Elmo di Morn No mi sa Beh no Quello che è morto Morn Cioè Morn non era lui L'elmo di Morn Apparteneva al cavaliere Che faceva la guardia A Irina Giusto? Sì 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 L'avevo ucciso Ah no scusa No io l'ho ucciso Per te Sì è vero sì Ah tu hai finito la quest Bizzarro elmo In dotazione ai cavalieri di Karim Modellato su Morn Apostolo dell'arcivescovo La forma della testa È una riproduzione perfetta Delle statue di pietra Della cattedrale Quindi è un gargoyle Praticamente I cavalieri di Karim Dedicano la propria vita A servire una sola fanciulla Proprio come Morn Servi solo una dea Che è praticamente La candidata Guardiana del fuoco Del Tempo Giusto? Sì Armatura nera In dotazione ai cavalieri di Karim Modellata su Morn Apostolo dell'arcivescovo A partire da un minerale Simile alla pietra Ok Sempre solita cosa La danzatrice L'abbiamo Le Tanto la sento Poi ne parliamo Corona di un re senza nome Alleato degli antichi draghi Si dice che questa corona dorata Avvolta da lunghi filamenti di cenere Sia molto simile A quella Del primo signore Beh Direi Armatura di scaglie di drago Appartenuta a un re senza nome Un tempo alleato Degli antichi draghi Le scaglie di drago Sono affilate come rasoie Immuni al fuoco Si dice che questi bracciali dorati Come la corazza e la corona Siano molto simili A quelli del primo signore Beh qui proprio È Se non l'hai capito È il figlio di Gwyn Esatto Ok Sì sì Le scaglie di drago Sono affilate come rasoie Immuni al fuoco Abbiamo poi Zorig Abbiamo Gundir Abbiamo Il set di Carla Cappello di Carla La strega oscura Un cappello a punta È simbolo di una strega eretica Carla però Non se ne separa o mai Beh direi perché Lei è fiera di esserlo Esatto Esatto Se no Non sarebbe l'NPC Che vuole leggere I tomi oscuri Questa veste è macchiata Logora e maleodorante Le conseguenze di un lungo viaggio E di una prigionia Ancora più lunga Indossare un tale oggetto Sarebbe follia pura Questi guanti sono macchiati Ok Tutto follia pura Ma i pantaloni li compro Veste di Xanthus Cappuccio consacrato Oh mio dio Ma l'abito di Fred L'avevamo a letto? No Che no Sì? Non ne ho ricordo Se no Forse no Forse no Parte degli abiti di Fride Una sorella del mondo dipinto Un cappuccio nero dall'aria ordinaria Dopo aver abbandonato tutto ciò che aveva Nacque in Fride Il desiderio di proteggere il popolo Da lei scoperto Sunse quindi la forma Che essi Più desideravano vedere Ossia Priscilla Ossia Priscilla Certo Quindi con le falcine Esatto E anche quella di una madre direi Esatto Qualsiasi forma di protezione Implica la necessità di brandire un'arma E versare il sangue dei nemici Come scoperto da Fride Durante la creazione Della chiesa nera Fride fondatrice con Yuria E quella Esatto Che inizia con la L Sì Sì È sfigatissima Non ricordo Le tre sorelle Come si chiamasse L L Lily 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 Mi dispiace Questo anello speciale proviene dalle terre orientali Lilian Lilian Ecco Dice L'anello vitale già ce l'abbiamo vero? Sì Scusi Lloyd pure Stemma di legno non credo No Non ce l'abbiamo perché è quello dell'est Questo anello speciale proviene dalle terre orientali Ed è di metallo decorato con uno stemma di legno Rallenta utile come il cazzo in questo mondo nel quale non puoi riprodurti capisci quindi è inutile, si esatto in Dark Souls 3 è completamente trash è costume tra chi utilizza le spade create nella stessa regione incidere parole speciali sulla lama, tali guerrieri sono attratti inevitabilmente da quest'anello, ci piace scudo di Lloyd non credo hai la spada va bene, mi fido anello donato ai cavalieri della via bianca decorato con lo scudo della casta del gran maestro Lloyd potenzia la quantità di danni assorbiti quando i pv sono al massimo molto tempo è passato da quando l'adorazione di Lloyd era la parte della dottrina della via bianca i chierici di Karim hanno sempre sostenuto che Lloyd fosse un charlatano ma tu mi dicesti che in questa descrizione non è sempre ma a un certo punto hanno sostenuto in giapponese, giusto? diciamo che lo hanno potuto dire hanno potuto esprimere ciò che sapevano ciò che sapevano ciò che era un charlatano e questo per tutti i discorsi che abbiamo fatto in DS1 esatto sembra un po' una drag queen molto, sì purtroppo no non mi piace cioè dovrebbe essere epico ma sembra veramente di stare andando in una serata drag bellissime ma non si addice alla fine del mondo ok non piace mai a nessuno d'accordo purtroppo che mi dispiace un po' non dare mai una head a a F hai evoluto alla fine un po' il design di refill quindi ci sta dai F decide di nascondere il suo volto perché è troppo brutto ma non vuole più rinunciare agli anelli sì mi piace it's Carla time oh no oh no dove erano i pantaloni di Carla eccoli qua ok ci sta se a questo punto potremmo cambiare anche la cesta no è forse il tempo di cambiarci un'ultima volta come un prete dovrebbero mettere la possibilità di vederti il il set addosso senza comprare premi R3 ah no eh no quello no no niente that's too much dov'è il set della danzatrice eccolo qua non è male e di sotto ok ok qui puoi proprio fashion soul sare come il dio esatto bello merda cavolo mi sto vestendo da dark lord perché sono il dark lord il love the hollows i see Sto osservando attentamente eh ragazzi Servono dei calzoni qui palesemente Però non devono essere troppo Questi sono belli Però mi sa che sono troppo pesante vero? No Allora va bene Questo mi piace così Mi piace Bello 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 veramente bello Cioè guardate come ci sto bene così A fare le danzette Bello Ah giusto i guanti Ma i guanti non sono male Quelli che ho Quelli è il cavaliere lupo No No Forse questi polsini in realtà sono top Però Oddio questo lo sai? Quanti Cavaliere argento Oddio belli questi però Dell'ammazza draghi Eh 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 Però quelli del cavaliere lupo stanno bene con i pantaloni No no va bene così Va bene così Allora andiamo da Carla ragazzi Che non sai dov'è mi sa Tu si? No non sai dov'è No non so dov'è però secondo me Vabbè la troverai La trovi presto Non ti preoccupare La trovi presto La trovi presto E a Andreopoli Sì 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 Questa di qua Greyrat ancora non è tornato eh No Porca la puttana Eh Sarà vicino Sarà in zone eretici? No Intanto sentiamo se Yuri ha da dire qualcosa No Allora Vediamo un po' La trovo presto ma non la sto trovando in realtà Quindi sto deludendo il monestro Eccola No 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 esatto Via degli eretici 37 Beh t'ho liberato Il sexo Il sexo No no certo che mi interessa No no certo che mi interessa E tu non sei un' Yoj E tu non sei diversa Però la vera remains da vera Y hh 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 hhm L'esseremo dei giovani Sono privi a questo compiere E spende Che farne un segretto Fillo Sado tra te e io Lo sto già facendo da un po' Beh io ho già deciso in realtà di espanderla All'inverosimile Nostalgia La sto rileggendo eh Magari anche proprio Portandosi dietro ricordi della sua Creazione Del suo primo arrivo Del momento in cui il nano furtivo Tirò fuori L'anima oscura Diamo lei Tommy Sarà meglio Beh anche perché è stata imprigionata Vabbè non è vero piace Piace anche a te Affinità Una stregioneria oscura proibita Che evoca una manifestazione fisica Dell'oscurità dell'uomo Sembra nascere dall'invidia O forse dall'amore Insegue il proprio bersaglio senza sosta Anche se come spesso accade I desideri umani non portano altro Che dolore e disdetta Ci avverto un po' di Dark Souls 2 Su questo finale Sul desiderio che portò i re a Consumare i loro regni Certo Mentre la prima parte Ti ricordi Fu molto discussa In DS1 Quando ti dissi Che per me Manus aveva perso Il controllo Della propria oscurità Per via di un eccesso emotivo Che in realtà Il controllo Sulla propria umanità Su quest'oscurità Di cui parla anche Carla Viene smarrito Quando le emozioni Si fanno troppo forti Cioè praticamente E in realtà Poi alla fine Quindi la parte finale Anche potrebbe essere Dedicata a Manus Che perde il controllo Per il desiderio Di rivolere L'affetto perduto E' un po' come Dirò una bestemmia Ma mi capirete E' un po' come Il discorso di Super Saiyan Cioè In Dragon Ball Quando si arrabbiano Diventano più forti Sì Fino a raggiungere Rabia calma Sì Fino a raggiungere Proprio Uno stato Di forza superiore Una nuova forma Qui la cosa però Sembra negativa Cioè L'oscurità Nasce dalle emozioni O meglio L'affinità Qui la spell Nasce dall'amore Forse dall'invidia E Credo che Se Le tue Emozioni Sono appunto Troppo forti L'oscurità Ti sovrasta E ne perdi il controllo E crei un abisso Ma Perdonami Dimmi Quindi Non ricordi Come in Dark Souls 1 Tenevi questo Lo tenevi nell'abisso Se non mi ricordo male Se non addirittura Dopo Manus Ci sei vicino Esagera Lo droppa Manus Esattamente Ecco Mi ricordavo Una cosa del genere Meglio Sì Comunque sì È l'anima di Manus Esatto Quindi proprio Potone Ecco Eh Chissà se esploreranno Di nuovo Questa cosa Chissà se è L'invidia Del nano furtivo Aver creato La razza umana Piuttosto che La sola presa Dell'anima oscura Lama oscura Una stregoneria oscura Proibita Che evoca una lama Formata dall'oscurità Dell'umanità Questa lama Tramandata Da madre A figlia Doveva essere Utilizzata Per proteggersi O per porre fine Alla propria vita La giovane La brandì Una volta soltanto Quindi per porre fine Alla propria vita Di chi parla qui? Allora Questa lama Tramandata Da madre A figlia Doveva essere Utilizzata Per proteggersi O porre fine Alla propria vita In realtà Non è detto Che l'abbia usata Per uccidersi Perché potrebbe Aver provato A proteggersi E morire La giovane La brandì Una volta Soltanto Eh sì Diciamo che Sì In chat Dicono Zulli Magari fa parte Di quella leggenda Però È riferito A Carla stessa Secondo alcuni Non l'ho capita Davvero qui Madre e figlia E forse davvero Carla è l'unica Spiegazione Potrebbe Potrebbe Però alla fine Non aveva questo miracolo Questa piromanzia Da sé Era dentro un tomo Quindi Eh sì Non è sua Piromanzia primordiale Creata da Quelana Figlia della strega Di Isalith Colpisce nemici Con una frusta di fuoco Chi la utilizza Deve manipolare le fiamme Con la forza di volontà Un atto Estremamente difficile La piromanzia Consiste nel controllare Il fuoco Nel sapere che tale Controllo È impossibile Da ottenere Tipico di Quelana Piromanzia primordiale Creata da Quelana La tempesta di fuoco Circonda chi ne fa uso Di pilastri di fiamme Una simile tempesta Colpisce indiscriminatamente Tale È l'orrore intrinseco Del fuoco Qui Vive davvero Tutta la paura Che Quelana ha del fuoco Legame Piromanzia avanzata Di Quelana Non la ricordo Questa È nuova Ah ok No in realtà La lama La lama Ce l'aveva di standard Ok ok grazie Ah quindi è proprio su Allora non c'è dubbio Che sia di Carla Quindi Carla è la madre L'è morta la figlia Eh sì Allora evidentemente È di Carla Direi E questa piromanzia Ce l'aveva A Quelana Solo che non te ne sei mai interessato Perché era effettivamente Molto flavor Costringe il nemico a combattere Per te Giusto La fiamma attira tutti i viventi Tale il rapporto Tale il rapporto è parte fondamentale Dell'arte della piromanzia Certo Il fascino del fuoco Fiamma nera Questa la usavano I stregoni Di Hulassi Sì di Hulassi Diciamo Più o meno sì Non proprio ma sì Piromanzia scoperta dai guardiani Della cripta Dopo la corruzione Del signore supremo Wolny Ra opera dell'abisso Beh certo Avvolge la mano Con un'enorme fiamma nera Le nere fiamme Dell'abisso Non gettano ombre Si dice che rappresentino Il misterioso fuoco Dell'umanità Ma è possibile Che anche Wolny Abbia creato Un abisso Per eccesso di emozioni? Beh Wolny Alla fine È caduto vittima Del suo stesso abisso Quindi Ma l'abisso Come si è generato In primis? Secondo me si può Si può pensare Ma non solo Era anche abbastanza comune O non avrebbe senso Il concetto Stesso di guardiani Dell'abisso Si si esatto 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 Loro andavano Praticamente A uccidere I guardiani Chiunque provasse Emozioni troppo forti Secondo me Lo trovo Perfettamente logico E Tra l'altro Conseguenze Di ciò che abbiamo Vissuto Fino ad ora Piromanzia Specialmente Dopo così tanto tempo Ah si si Sfera di fuoco nero Piromanzia scoperta Dai guardiani Della cripta Dopo la corruzione Del signore Supremo Wolny L'opera dell'abisso Scaglia una palla Di fuoco nero La fiamma nera Infligge danni Da oscurità E il suo impatto È letale Ritorna all'oscurità In maniera Molto meno prepotente Rispetto a DS1 Ma perché Secondo me La viviamo Nella forma Ormai piegata Al razziocinio Della chiesa nera L'oscurità Di DS1 È caos È Mancanza Totale Di controllo Per l'appunto Emanus È in un certo senso Un'antitesi Meno appoggiabile Per certi versi Rispetto al culto Del vincolo Per quanto sia Comunque Dove La natura Sembra andare E Qui invece Vivo l'oscurità In maniera Completamente diversa La chiesa nera Ha un'idea Piuttosto concreta Per ora Rimane la più convincente E Contrariamente A quanto pensassi In realtà La vetta Dell'Archidragon Non Mi ha suggerito Alcun nuovo indirizzo Non credo che G Lo facesse Per Sopravvivere Alla fine del mondo Lui Si trovava lì Per amore Dei draghi Punto Non gliene importava Niente Del destino Del mondo Assolutamente No Dove Dobbiamo andare Da Orbeck Dobbiamo fare qualcosa Allora C'è una cosa Prima di darti La libertà Di tornare Finalmente Al castello No ti ricordi Allo Tricopoli Esatto Non ti dico Il perché O il per come O meglio Per come si Ovviamente Non ti dico il perché Però Teletrasportati Ah no Non preoccupatevi Dei tomi dei miracoli Li a gialletti Da Irina Però se vuoi comprare I miracoli oscuri Ovviamente puoi darli Quello che posso dirti E che hai due Piccole chicche Una micro Una macro La micro Te la faccio Recuperare molto in fretta Ed è molto simile A quando Abbiamo completato La quest Di cornix Leggo prima Leggo prima però L'erba lama Me l'hanno Ricordata L'erba lama Ah ok Ah prego prego E lì non c'è Non succede nulla Se la legge Erba lama Macchiata di sangue Di Oakweed Disertore Della legione Di non morti E questo L'hanno capito Da tradizione La legione Di non morti Di Farron Invia i messaggi Più importanti Usando l'erba lama Raggiungi Il mausoleo Di Farron Solo uno Può seguire Il sentiero Dei draghi antichi Quindi Lui era incaricato Di trasformarsi In drago Non era incaricato Non era incaricato Ovviamente Lui è Un disertore Incaricato De che No E allora Da dove viene Questo messaggio Eh Te l'ha scritto Lui per te Te l'ha dato Andre Ti ricordi Eh sì Eh sì Te l'ha scritto Lui E' un messaggio Per te Forse è anche Scritto Giusto È giusto Esatto È scritto Affinché io Faccia quello Che ho già fatto Affinché no 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 Ha addirittura È una sfida Solo io posso Esatto Ho capito Beh ma in realtà Non è vero A meno che Non mi abbia rubato Qualcosa Ma in realtà Anch'io ho fatto Il La meditazione Anch'io ho preso La pietra Quindi non Perché dovrebbe farlo Solo uno Perché forse Lui sa qualcosa In più di te Allora l'unica differenza È che lui si è teletrasportato Io no Forse lui È uno step più avanzato Ma Ha scoperto Che La vera ascensione È un po' La film one Nel senso Highlander E dov'è E dov'è il mausoleo Di farlo Nella boss fight Bravissimo Allora Ci andiamo adesso O ci andiamo dopo Era la seconda cosa È quella macroscopica Vai lì La micro La fai dopo Che un secondo Ora ho capito Ragione Prossima volta Molto importante La scritta Eccolo Ma qui cosa c'era? Ah giusto Giusto Forse con queste armi Non è il caso di Farci una fight Che sembra essere E' piuttosto hard Dove la ucci? Eccola Ah Dove l'ho Dove l'ho Dove l'ho Dove l'ho Decidito Di stop Ramming Da mia Fate Loadmi Allora Dove l'ha Dove l'ho Non farti sconfiggere. Non lo farò. Perché mi hai preso? Nice. Bastardo. Eh, forse sei troppo distante. Il tempismo è buono. Non è vero. Bella, bella. Cosa stai facendo nel tuo schermo? Sono confuso. Non preoccupate. È un rituale segreto. Sì, è la vera ascensione. Pietra della testa di drago. Scintillante. Ah, ma è consumabile in teoria, no? La seconda pietra infusa con il potere dei draghi eterni, offerta a un immenso drago, perché io avevo il torso. Conferisce la testa di un drago per emetterne il soffio e proiettare il miraggio di un arci drago, che è quella di Elden Ring che ho visto nei tre anni. La trasformazione è irreversibile fino alla morte. Tale illusione rappresenta il primo tentativo umano di imitare l'aspetto di un antico drago e ha svelato la pochezza dell'esistenza umana. Eh beh, certo. La via per i vecchi draghi è lunga e tortuosa e solo uno riuscirà a completare il viaggio. Io, in teoria. Però mi devo spogliare. Non voglio farlo. Ma se le uso tutte e due, che succede? Penso che tu possa usare entrambi i poteri in qualunque momento. Ah, però no. E anche mea, e se le usi la testa, puoi mettere l'equipaggiamento. Ah sì? Eh sì, è quella la chicca. Giusto, perché non hai più il torso. Devo togliere comunque la head, però. Sì, esatto, esatto. Esatto. Beh, non è male. Altro che se non è male. Merda! Eh? Capito. Ok, dove volevi portarmi? Vai direttamente da qui. Vabbè, non serviva ad andare al vincolo. Eh no, volevo andarci perché volevo bruciare l'osso. Ma... Ah, giusto, bene, sì sì sì, ma è un secondo, questa cosa ti faccio fare un secondo. Ok, nice. Ora vai al lupo Farron. Sì. 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 Vecchio lupo di Farron. Yes. Ti ricordi che qua c'era un demone pietrificato che hai sconfitto? Ah, sul ponte? Demone pietrificato? Sì, sì sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Lo qui hai rotto le gambe. Certo, certo. Vai, vai là, vai là. Eravamo insieme quando l'abbiamo fatto, mi sa. Yes. Devo andare di qua, forse? No, c'è l'ascensore dentro il proprio dove eri prima. Ah, ok. Troppo tempo fa. In realtà puoi anche entrare nella Covenant se vuoi. No, no, no. Ti dà l'oggetto, basta che non lo equipaggi. Non me lo sento. È uguale, sì sì. Capito? No, ragazzi, è finita. Cioè, farò solo questa cosa adesso. Dai, basta. Esatto, a sinistra e in fondo. Guarda un po', c'è una lucina. Sì, c'è un drop. Eh, non c'era prima. È vero. Solo gameplay, eh. Ok. Però, però, è uno di quegli unlock segreti che sblocchi se hai ucciso il demon, sei andato abbastanza avanti, eccetera. Oh! Però non l'abbiamo già letta? Eh, non credo. Non credo. Ah, sì, perché hai troppo... No, no, no. Non è la stessa. Non è la stessa. Non è lo scudo. Non è la stessa. Una pesantissima armatura scavata nella viva roccia offre una protezione impenetrabile. I guerrieri seguaci di Hevel la roccia erano inarrestabili macchine di morte in battaglia. Chiunque si opponesse finiva inevitabilmente polverizzato. Ok, niente. Stessa cosa. I guanti e i vellici dove sono? Eccoli qua. E anche gambe uguali. Sì. Bella. Super completismo. Il... L'oggetto del patto che posso prendere dal lupo è... L'orifico oppure no? L'orifico? Ne abbiamo già parlato. Guarda, il fatto è questo che comunque non sarai di alto grado nella Covenant. Eh, per quello... Però intanto ti prendi l'oggetto, te lo leggi, ma non ti cambia niente. Finché non equipaggi la Covenant non sei nella Covenant in Dark Souls 3. Ok, allora, allora lo prendo, dai. Ragazzi, è il momento del fuego. E' fatta. Ah, che guarda che parti. Questa è la randa ora in poi, ragazzi. Questa è la randa ora in poi, ragazzi. Che si è fatta. Devo mettere... Voglio unirmi al patto, giusto? Sì. Guardiani di Farron. Allora. L'oggetto lo trovo nei consumabili? No. No. C'erano proprio i patti, vero, vero, vero. E che ormai non li troviamo da troppo tempo. Guardiani di Farron. Eccolo qua. Guarda, quello è Sif. No? Sì, sì, sì. Sì, sì, è il lupo di Farron, però sì. Eh, è comunque ispirato. Un antico medaglione decorato con lo stemma di un lupo. È il simbolo del patto con il vecchio lupo di Farron. Equipaggialo per votarti al patto dei guardiani di Farron. I guardiani vegliano sul sonno dei guerrieri, manifestandosi come spiriti fedeli e dando la caccia a chi sconfina nei boschi di Farron. L'evocazione avviene automaticamente quando questo oggetto è equipaggiato. Nulla di nuovo, in realtà. Esatto, esatto. Bene. Ok. Dove andiamo? Torniamo a Lothric? Armatura a Mazzadraghi, sei libero. You are free! Godo. Let's go, ragazzi. È fatta. È fatta. Quindi andiamo verso il principe. Aspetta, devo spendere soldi. Cioè, anime. Tutto vitalizio. Vai, vai. Che qui i boss cominceranno a picchiare. Allora, allora, riprendiamo armatura dell'Ammazzadraghi. Let's go. Bellissima. E ora sei di nuovo blind. Perché noi dall'armatura abbiamo fatto il girello all'indietro per andare alla vetta. Dopo aver fatto l'Ammazzadraghi. Che anche a livello di lore ha il suo senso. Eh, 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 eh. Sì. Andiamo. Avevo notato, ragazzi. Avevo notato questo. Riprendiamo il discorso da dove l'avevo lasciato. Gli angeli. Grande punto interrogativo di questo gioco. È alato Frampt. La statua di Frampt è alata. È anche un po' antropomorfa. Quindi chissà, magari anche loro avevano la loro declinazione di trasformazione draconica al di là di quanto si stesse studiando negli archivi centrali. Dove invece la cosa era molto più indirizzata a Sith. E quindi alla trasformazione in un drago albino. Piuttosto che a un serpente antico. Sì, queste statue credo che siano assolutamente una sorta di manifestazione simbolica del fatto che per il culto del vincolo evidentemente era ancora vivo Frampt. Ed è stato reso, cioè, alla fine gli angeli cosa sono se non messaggeri, no? Certo, lui era messaggero dell'importanza di vincolare, corretto. Questo invece che cos'è? Ecco... Sciolta. Sai che... In realtà... Fammi vedere se ce ne sono altre. No, non è sciolta. È fatta apposta così. Bravo. Sta colando l'oscurità. Cosa sta facendo? Questa è una cosa folle. Folle. Con qualche descrizione, anche solo per sentir nominare il personaggio, puoi fare qualche salto dello squalo, ma non è qualcosa che puoi intuire, non è qualcosa che è logico intuire. No, no, è Miyazaki. Ah, ok. È Miyazaki che ha costruito la storia del suo mondo dopo millenni e ha rotto il cazzo perché in questi momenti, con tutto l'affetto per l'autore, lui sa che cosa hanno fatto i suoi personaggi, i suoi studiosi, i suoi interpreti, i suoi artisti, con tutto ciò che può essere appunto il passaparola e l'emanazione di un'idea, di un culto nei lenni, fino ad arrivare a una forma diversa da quella che abbiamo conosciuto noi, ma ti ci faccio arrivare. Non è possibile farlo da soi, non preoccuparti. Ok. Zumba, fai il binocolaggio. È un uomo incappucciato che perde, è un po' Scholar of the First Scene, però perde liquame dal libro. Solo che lo studioso di Scholar of the First Scene richiama questa immagine, non a caso. Non è liquame, sono radici. Non sembrano, ma ok. Sì. Sembrano, sono radici. Quindi è l'immagine della lignificazione. Lo riescono anche dal libro. E infatti queste radici, infatti la strada non è sciolta, è proprio voluta così, sono ah guarda, non ti do la risposta oggettiva, questa è un'interpretazione ma ti assicuro che non troverai altro, nel senso che è una di quelle cose che purtroppo rimane un po' lasciata lì e ti posso dire, anche per descrizioni che troverai dopo e ti piaceranno molto molto, moltissimo, tantissimo, tanto tanto, i casi sono due. O sono studiosi ricoperti di un materiale che stiamo per incrociare e quindi qualcosa che ti andrò a spiegare nell'interpretazione di descrizioni che si capiscono solo dal giapponese. Certamente. Oppure, più plausibilmente, perché non è il tipo di statua che farebbero accanto a Frampt, ok? Quello è un'interpretazione di Aldea. Ah, quindi proprio Aldea. Sì, lo studioso radici. Sì, 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 sì. È che è interessante come gli angeli che volano in cielo sembrano l'unione delle due statue. Anche, è vero. Serpenti, collo allungato, ali, ma radici. E guardali un po'. Collo allungato da serpente, ali, ma radici. Cioè, questi hanno palesemente radici che gli escono dal cuore. Ah, assolutamente d'accordo, sì, sì. Quindi c'è comunque anche non solo una glorificazione di Frampt, ma anche di... dell'antico scolaro. Che evidentemente è anche a Lothric. Ti dico, comunque, al di là di cosa può essere questa storia o meno, di metterti nel taschino questa informazione. È possibile che Aldea, l'eterna creatura che appunto è ascesa dalla forma umana ad altro, fosse persino fin qui in Lothric? Ovviamente sì, perché c'è una statua che lo cita. e vorrei dirti di più. Stanno volando verso l'eclissi? Sì. Sono farfalle... Mi ricordavano in chat che si chiama Farfalla Pellegrina. Sono a Farfalle Pellegrina. È verso dove pellegrinano? Verso l'eclissi. Sono attirate da questo sole buio. Loro sono un po' anche sole buio, no? Cioè, Aldea, direi che sole non è. Questi angeli vogliono volare verso l'eclissi. Sono attirate da questo, di fatto. Mi sto armando appositamente. Sono attirate dal fuoco buio, o dal buio infuocato. L'eclissi è un po'... Dal fatto che ormai sta finendo il mondo. Eh, magari stanno cercando di volare verso un mondo nuovo, almeno nella loro testa. Questi angeli sono davvero roba strana. Mi perdonerete se li osservo ancora un po'. Oh sì, ma tranquillo. Tra un po' avrai descrizioni un sacco emozionanti. Sono comunque umani. Lo erano. Sì, lo erano, sì sì sì. Hanno palesemente le gambe, le braccia. Il collo si è allungato, però... Si volano verso l'eclissi. Ma come è arrivata questa eclissi? Perché è solo qui. Percepibile. Com'è possibile che ce ne siamo resi conto solamente qui? Chi l'ha evocata? C'è sempre stata? È dovuta alla fine del mondo? Eclisse? Allora, l'eclisse in natura non c'entra niente con la fine del mondo. Ma mi chiedo qui ovviamente. No, io credo che non ci sia evocazione voluta. Questo è semplicemente il fatto che... Il mondo sta finendo. Miyazaki ha proprio deciso di metterci al serio, serio limite, assoluto. Cioè ormai la fiamma, stavolta, non è che si sta un po' affivolendo. Certo. Si sta spegnendo e persino il sole sta venendo avvolto nell'oscurità. e poi gli piace Berserk. Tra le altre cose. Tra le altre cose. Esatto. Hanno proprio il collo da serpenti. La testa però non è quella di Frampte, è più mostro di Metroid. Sì. E hanno quattro ali come i draghi. Vero? Sì. Dovrebbero averne... Hanno quattro, no? Quattro, sì, sì, sì. Direi che ci dobbiamo fermare per ora. Entriamo. Cioè fermare nel senso, non con l'esplorazione, con lo speculo pazzo. È il momento di risposta. Visioni di risposta. Siete dei tesorini, Hyptrain, a quest'ora, eh. Oh! È una statua del re? È Oseiros prima della Madness? Beh, la corona sembra proprio da re. Non da Chierico. Sì, decisamente. Chi è? Non sembra un uomo lui, però. No, oddio, ha le tette. No, no, è femminile, sì, sì. Sarà Guinevere? Potrebbe. Però interpretata in maniera diversa rispetto a... Alla regina di Irithil. Eh, sì. Grande, grande, grandissimo, Mias, grandissimo. Eh, un po' sembra una sacerdotessa, però, cavolo, metti il re accanto alla sacerdotessa. Però che qui ci stiamo avvicinando ai pilastri di Lothric, quindi avrai sicuramente modo di approfondire anche l'altra opzione che non ti ho rivelato della statua. Quella di Irithil, dici? No, no, quella che abbiamo giocato a pensare. Se fossero radici è per caso un'interpretazione umana di Aldia. E se non è quello, cosa può essere? Il cosa può essere lo capirai presto. Qui c'è un'altra statua con le radici. Ed è in preghiera. Guarda lì. Questa è proprio la lignificazione che abbiamo visto nel borgo dell'insediamento dei non morti. Questa è un'altra cosa persino, in realtà. Guarda, qui è l'ascensione ad angelo. Allora, no, qui è una rappresentazione piuttosto chiara. Però gli angeli non erano. Qualcosa di estremamente simbolico e molto antico. Guarda la statua, a differenza di tutto quello che hai visto, anche prima, quella che sembra essere lignificata o con radici. Questa è costruita come se avesse avuto un'esplosione di Nancy. Guarda bene il... guarda la di là, guarda la di là. Hai ragione. Va verso il retro. Esatto. Il motivo di questa scelta è qualcosa che ti ho introdotto piano, 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 piano. Ed è tutto molto interpretativo, è tutto molto folle, ma ha senso. Nelle alte mura di Lothric tu avevi incontrato le statue delle guardiane del fuoco e dei cavalieri inginocchiati o comunque prostrati, sempre... Con la testa in mano, sì, sì, sì. Sì, non ancora. Poi andavi avanti e avevano la lama sul collo. Ok, ok, progressivo sacrificio. E avevano la mano in testa, erano sacrificati. I cavalieri erano sacrificati a Lothric per il culto del vincolo. Qui ci stiamo avvicinando a quello che tu... Magari sono ricordi in tempo reale, ma intuisci in due secondi. E' un'area che chiaramente si trova oltre il castello di Lothric. E allora questa è la fornace, è il sacrificio della fornace. Non sono radici, stavolta è sciolta davvero. Bravissimo. Questa è una rappresentazione del fatto che chi si muove qui, e questo è molto importante, è talmente dentro il vincolo del fuoco, o meglio costretto, è stare dentro il vincolo del fuoco, volente o non lente, che la statua rappresenta proprio il culto del vincolo. Lo stare lì e sfarsi carico del sacrificio. Ti faccio una domanda, non è possibile che anche l'altra statua richiami questo e non radici? Ci sono cose che ti hanno fatto pensare dopo che sono radici? No, no, le radici sono un'opzione. Ti ricordo che c'è un'opzione B che non ti posso ancora rivelare. E che sarà estremamente più coerente. Io ti ho citato le radici perché mi piace molto che tu possa pensare pieno pieno ad Aldia. Ok? Ok. Voglio che tu possa pensare ad Aldia, all'Otheric in qualche modo. Perché io ti parlavo di roba sciolta all'inizio perché mi sembrava proprio il culto del vincolo. Cioè la statua, tributo del culto del vincolo. No, se tu vuoi vedere la statua, è completamente diverso. Sono orientate verso il basso, hai ragione. Non c'è nessuna esplosione, anzi è quasi ctuliana la cosa. Questo non è assolutamente il vincolo. Hai ragione. È un'altra cosa. Hai ragione. Mentre queste sono proprio le robe sciolte nella fine di S1. Esattamente, esattamente. Hai ragionissimo. Fammi fare il controllo qui. Il controllo, ah giusto. Eh però aspetta, mia zi. Ok, bella. Qui niente, qui nulla, il nullato di sodio. E allora possiamo salire di sopra. Ah no, aspetta, 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 aspetta. C'è il segreto. Vabbè, non so cosa mi aspettassi di trovare, ma va bene. Un pezzo di tita. Non l'ore, ma interessante. No, soprattutto perché comunque ti ricordo che la cenere che ti permette di ottenerla è segreta. Guarda un po'. La bassa lottric. Esatto. Sì. Ma... Noi qui siamo in cima a tutto. Quell'arena... Ci siamo... Ci siamo già stati in quell'arena circolare? In quale arena circolare? Guarda. C'è una specie di arena circolare con delle colonne intorno. Sembra molto dettagliata. Ci siamo già stati? Che cos'è? È il giardino del Re Consumato. Ah, vero. Vero, vero, vero. Stai guardando il giardino da qua. Giusto. Prima della boss fight. Corretto. Capisci perché ho l'hype per Elden Ring. Perché? Quello del giardino. La mappa, cazzo. Ah, beh, certo. Guarda che bello. È sempre tutto visibile, tutto uno a uno. È una madonna. Abbiamo binocolato delle cose noi nel CNT, non diciamo nulla, ma... Esatto, esatto, esatto. Ok, let's go. Sì, sì, dove mi purgavano i due cavalieri, me lo ricordo. Sì, sì, sì. Nuove statue? Non sembrerebbe. Nuove no, però. Siedino. Oh, siamo all'archivio centrale, finalmente. Ne abbiamo sentito parlare tanto. Quindi qui c'è l'altro saggio di cristallo. Morte più avanti. Chiave dell'archivio centrale e spade... Spade doppie di Gotthard. Conosciamo Gotthard? No. E lui? Guarda. Questo è un cadavere unico. Gotthard è stato a volte evocabile. Ah. No, Gotthardino. Sentiamo un po' che hai da dire. Ah, a proposito, vorrei farti notare una piccola chicca. Leggi dopo. Levata qua. Levati. Così facciamo la chicca scema. Sì. Visto che comunque è stato sviluppato in un anno, poverini, sono matti. Sono stati veramente degli dèi. Ma come l'ho fatto in un anno? Non lo so. Dark Souls 3 è il miracolo di fare un software. Guarda, zooma sul volto di Gotthard. Sì. Faccio subito. Aspetta un po'. Fissalo bene. No. Sbattere gli occhi. Esatto, sbattere gli occhi. Perché sono dimenticati di dedarlo. Non vuole rotto il cazzo, sì, esatto. Però che entri lui. Non voglio. Che impressione. Fatemi leggere il Gotthardino, va? I cacciatori, noti come Manonera del Re, utilizzavano coppie di armi. Queste appartenevano a Gotthard, che fuggì dal castello. Quindi era un assassino di Oseiros. Gotthard divenne cavaliere molto in fretta. Ma questo non stupì chi ne conosceva la destrezza con una lama. Beh, certo. Sì, guarda, queste armi ti potrebbero far esplodere il cuore, eh. Ah sì? Sono forti? Eh, sono belle e molto, molto forti. Sono molto forti. Ok. Con L1 cosa fanno? Un po' di danzine? Guarda che danza che fanno. Eh sì, eh. Potrei poi provare. Anche se ormai... No, beh, ormai ci sei. La strada della katana mi sta piacendo tantissimo. Perché la katana col perri è proprio pornografica. Allora, boh. Uh, altre figure angeliche le ho viste con la coda dell'occhio. Ma dobbiamo... Aspetta, le chiavi. Le chiavi, devo leggere prima le chiavi. Mamma mia, quanta roba oggi densissima. Eh, sì. Chiave dell'ingresso principale dell'archivio centrale di Lothric. La dissipazione del fuoco e il marciume dilagante portarono l'archivio centrale a chiudere definitivamente i battenti. Delle chiavi d'accesso solo poche rimangono. È probabile che questa appartenesse a Gotthard, una delle mani nere del re, che fuggì dal castello. Quindi l'archivio centrale è chiuso i battenti quando la putrescenza si è fatta troppo elevata. Sì, considera che in giapponese dice chiave per la porta d'ingresso dei grandi archivi di Lothric. Da quando il fuoco sta svanendo e il pus umano si è diffuso per il castello, cosa completamente non tradotta qui, il portone dei grandi archivi è tenuto ben chiuso. Ah, ok. Pochissimi. Esatto, no, è tradotta di merda. Pochissimi vi possono accedere e questa chiave apparteneva probabilmente a Gotthard, un membro della mano nera del re, che ha lasciato il castello. Quindi non è che l'archivio è stato abbandonato, semplicemente lo proteggono. E soprattutto Gotthard non è fuggito. Sì, 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 certo. Non è fuggito, è uscito dal castello. Anche perché è morto qui. E che cazzo. Quindi non è un disertore. Eh. Abbiamo una statua particolare che vorrei farvi vedere. Ed è questa. È un Tengu. È un particolare. È un uomo con la corona e le ali. Sì. Quindi non so cosa dire. Perché? Saidonia non sa cosa dire. Perché il culto degli angeli in teoria è eretico. Sì, sì, sì. Eppure queste statue sembrano denotare una presenza dell'icona angelica proprio nel regno. Proprio quel regno che ha appunto bandito il culto angelico. Quindi non comprendo bene. Questo uomo è un re che diventa angelo. È una figura molto particolare che vedrai qualche volta da qui in poi. È come se il re avesse sognato di divenire angelo. Quindi in realtà Lotric ci fosse effettivamente anche ufficialmente l'idea della trasformazione angelica dell'uomo. Ma questa non è avvenuta. Gli angeli idolatrati non sono quelli veri, quelli che l'uomo sarebbe dovuto, o il re sarebbe dovuto diventare. Quindi sono divenuti eretici. E alla fine Oseiros ha ripiegato quindi su una trasformazione draconica. Questa non lo è. Non sembra. Oddio, un po' di scaglie ci sono. Quelle un po' scaglie sembrano, no? Sul corpo. Sì, no, assolutamente. Solo che è una statua veramente un po' lì. Chissà. Per ora ti dico chissà, poi... Diciamo che ti spiego. Queste sono quelle cose che non perdonerò mai a Dark Souls 3 nella sua bellezza. È un po' troppo isterico nella microscopia dicotomica delle culture. Mettiamola così. È la traduzione italiana migliore che posso utilizzare. Ok. Perché se ci pensi, il concetto di angelo, di messaggero, di studioso, che porta il verbo attraverso l'iconografia angelica... Sì. Lothric è piena. Frampt ha le ali di angelo. Quindi questo re, questo messaggero del regno di Lothric, del culto, del vincolo, comunque anche soltanto fosse della volontà di colui che governa il popolo, ci sta che abbia le ali di angelo. E il fatto che abbia una scaglia draconica si lega anche molto al fatto che il re stregone stava un po' sclerato a riguardo. Sì, sì, sì. E secondo me, Oseiros, io me lo riesco a immaginare francamente, molto poco tempo sul trono, da quando è successo il disastro, e molto tempo dentro questi archivi. A ricercare come trasformarsi, sono d'accordo, però continuo a chiedermi. Quindi la fede angelica è un'altra cosa. È un'altra cosa, però è strano il fatto che venga bandita una fede che è coerente con un'icona di Lothric, anche se non letterale. Sì, 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 sì. Ma anche le monete di Lothric hanno un angelo sopra, c'è questa strana incoerenza del regno, che magari può anche essere stata scritta con analogicità, però poi il giocatore, povero Cristo, ma che deve fare? Sì, 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 qui è veramente confondente quella statua. Un po' di pietà, un po' di pietà per noi poveri, giocatori e speculatori. Entriamo. Entra. Tu lo sai che ti è stato detto anche in giapponese, cioè, aprire queste porte vuol dire subentrare in un luogo molto, molto segreto, eh? Certo, ma sono pronto, voglio sapere. Addirittura l'apertura della porta. Esatto. Cosa c'è là sopra? Ok, è semplicemente luce. Ah, devo cambiare la password. Mannaggia, mi sono distratto. È il saggio di cristallo. Eccolo qua. Che però non è più un boss, perché io ora sono troppo forte per considerarlo boss. Ha proprio lo stesso comportamento dell'altro. È andato via. Vuole plangiare, Franco. Non ho visto neanche cosa ha droppato, ragazzi. Ho troppa paura. Però io voglio esplorare con il binocolo, non aver paura dell'invasore. Qui, mannaggia al cazzo. Aspetta. Da dove sta cercando di sniperarmi? Dall'alto. Ok, l'ho visto. Allora. Buoni. Guarda là. Libri. Ancora la statua della donna e di Frampt e del re. Libri, 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 libri. Ancora libri. Eh sì. Roba sciolta. In realtà sono radici. E qui dobbiamo scegliere però dove andare. Mannaggia. Che labirinto. Eh, muro, muro. Cominciamo da destra e let's go. Perché sennò qui diventiamo scemi. Comunque lui è l'altro saggio. Mi aspettavo di trovarlo, sinceramente. Porca troia, come mi ha preso? C'è un Greyrat là sopra. E ce n'è anche uno qua. Dai, scendi, Greyratino. Dai, scendi. L'hai visto. Ok. Ok, l'invasore è quello, credo. No, quello è un mob. Quindi ormai l'archivio è caduto e ci sono i ladri che cercano di saccheggiarlo. Ricorda molto l'eredità degli archivi del duca, eh? Terribilmente. Qui stai trovando un luogo nel quale la cultura era protetta ma anche nascosta. Chissà che libri ci sono qui. Hai ragione. Puoi chiamarla cultura, chissà. Beh, sembra proprio la storia più che la cultura e basta. Esatto. Talmente tanta roba. Esplora con cura e pazienza. Questo è un luogo molto speciale. Assolutamente. C'è chiunque abbia fatto questi archivi, secondo me, ha almeno depredato gli archivi del duca. Ah, mi piaci. Mi piaci, mi piace. Eh, devo buttarmi? Non erano schiavi? Beh, no. Questi sono ladruncoli. Questi, quelli erano, cioè, sono stati schiavi ma ormai. Chiedi a Sabaccu se sono archivi del duca o archivi del re. Ok. Sono archivi del... Sono abbastanza sicuro che siano archivi centrali, ragazzi. Sì, in giapponese sono gli archivi reali. Ma cambia poco. Ah, vabbè. Eh, ragazzi, sto facendo il giro in tondo. Mi sa che mi devo buttare veramente lì. Sento... Sento puzza di posto dove mi perderò per sempre, ragazzi. Mi spiace tanto. Boh, mi butto qua. Sembrava una mappa di scimmegavita in sei, ragazzi. Ah, ok. Angus di Astora. Ma è disperato? Elmo del Cavaliere d'Elite. Aia, no, non è così disperato, in realtà. Oh, mamma mia. Arrabbiatissimo. Eh, qui si beve, ragazzi. Non posso perché ha due mani, vero? Uh. Vabbè, giusto. Ho bevuto io, beve anche lui. Non sono d'accordo. Non sono d'accordo per niente. Ah, mi prende. Fuck. Non conosco bene il range di questa roba. Fucking parry. No. Cosa? Cosa? Fra? Fra, ti sto body bloccando, è finito. Cosa? Laggopoli, ragazzi. Non so cosa io ho fatto, ma non se la meritava. Eh, sta laggando malissimo. Oh. Serà un parry pesante, eh. Aia. Attenzione. Oh, vai. Ah, ma non gli faccio niente? Tipo il drago. Eh, il danno non è altissimo. Lagga veramente tantissimo, comunque. Sì, sì. Non si capisce niente di come si sta muovendo. Ah, io sono full curato adesso. Io penso che lui le abbia finite le Estus, comunque, perché abbia avuto veramente un cifro. Eh, vabbè, fra. Smirolli addosso. Funzionale così. Allora. Bella, bella sfida. Eh? Cos'è? C'è un verso strano. Oh, fuck. Era lui, forse. Dobbiamo ben guardare in alto. Tra l'altro lì c'è un oggetto. Allora, aspetta, io ovviamente ho perso la strada, mannaggia al cazzo, perché c'era questa invasion e quindi... Ok, sono venuto da qui, apposta. C'è un oggetto là, quindi mi sta dicendo sali. Fai il giro e sali. Ok, perfetto. Adesso. Andiamo di qua. Oh mio Dio. Un centino. Pezzo di titanite, buono. Ok. Qui bisogna esplorare con le orecchie, eh, non solo con gli occhi. Vero, maestro? Devi proprio guardare tutto. E osservare. C'è anche qualcosa di pesante che si aggira qua dentro. Ma, ma che cazzo? Ma cos'è? Maestro? Maestro? Forse è un'inquadratura particolare del saggio di cristallo che si è spostato. Ah, ok. Paura, eh. Non capivo cosa fosse. Si è girato. No. Zero su dieci, mi spiace. Oddio, sì. Non puoi. No, è andato via. No. E dov'è? L'ho buggato per sempre? No, no, no. Ok. Semplicemente altrove. Oh. Pensavo foste statue. Ma siete... No, ora tu ti fai osservare. Siete la statua, forse. Hanno tipo della cera addosso. Vero o no? Esatto. Mi sa che sono la statua. Esatto, ecco. La statua sono gli studiosi qui con la cera colata addosso. E hanno anche infatti un candelabro. È quello a cui volevo arrivasse. Questa cera è molto particolare. Ma prima di contestualizzarla... Perché hanno della cera addosso? È una gran bella domanda. Vabbè, possiamo ucciderli e guardarli. Fortunatamente non spariscono, quindi... Dio benedica la ragdollanza. La tirano anche? Ammazza, hai il saggio di cristallo. Sì, sono sotto tiro, purtroppo. Esatto. Fatemi fare dell'observatium, per favore. Forno. Fammi fare dell'observatium, bastardo maledetto. Dov'è? Porca troia. Mi fai guardare? Grazie. Mi fai fare la mia live? Hanno della cera colata addosso. Sì, hanno della cera colata addosso, esatto. Però in teoria è volontario, non ci sarebbe una statua a... È bravo. Glorificare tale azione. Passo uno. Passo uno. Perché colarsi della cera addosso? Step taken. Che cos'è? Non può essere forse cera. Eppure lo sembra. Non sembrerebbe però neanche roba di cristallo. No, 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 no. È spermone come rosaria? No. Ah. Ma certo. No, ma tranquillo. Io sono venuto qua così per farmi battere da te. Sereno, sereno. Aggressivo il ragazzo. Tra l'altro, guarda, si è impaurato l'arma coi cristalli. Crepado. Però forte. Devo essere sicuro di non perdermi niente, ragazzi. Eh, infatti. Qui sono due le strade. E questa sembra piuttosto secreta. Perché pare un... Ah, ma questo è solo un elemento di sfondo come tutti gli altri, invece no. Ah, e poi c'è pure questa. Che cazzo. Ma è... Ma... Buio, eh. Bello l'incanto da ruolo. Fermi, 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 fermi. Una cosa alla volta. Ragazzi, questo posto è... Vaffanculo. Eh, lo sapevo io. Ok, è l'oggetto... È l'oggetto che avevo visto prima. Buono, buono. Cominciamo a chiudere delle strade. Questo posto è enorme. Scaglia di tita, sempre apprezzata. Ora abbiamo doppia strada. Di qua. Che però sembrerebbe un... Un avantino pazzo. Hai rotto i coglioni, hai rotto i coglioni, hai rotto i coglioni. Allora. Beh, in teoria... Ok, no, segreti. No, stavo guardando se ci fossero segreti. Che si tratti di coraggio, che vuol dire? Sto guardando l'altare. Non so se mi conviene andare di qua. Oh, porca. Ok. Scusami, sono un po' ansiato... Dal... Dalla presenza di cristalli che mi inseguono. Mi sto perdendo una strada o cosa? Vai, vai, non ti preoccupare. È un bel labirinto. Io sono venuto... Vabbè, andiamo. Andiamo... Andiamo dentro la stanza nera. E... Cosa? Va bene. E... Cosa cambia? Cioè, ok. Mi ha fatto capire... Che loro immergevano la testa in questa vasca. Quindi era un atto rituale. Sì. Ragazzi, non... Non avrei mai voluto colpirlo con una freccia. Mi credete? Eh, ti sei complicato la vita in un modo incredibile. Mai, mai. Vabbè, e niente. Andiamo nella stanza buia. In teoria. Comunque, ok. Era tipo un battesimo. Loro si buttavano dentro la cera. Poi? Che succede? Si accendevano? Comunque è cera. Esatto, si accendevano. Questo sicuramente. Erano dei luminari, di nome di fatto. Oddio! Eh. Ma non mi hanno fatto niente perché ho la testa di cera? Esatto! Bravissimo! Hai avuto proprio l'istinto istantaneo. Esatto, bravo. Bravo, bravo. Però... Che cazzo di incantesimo è, fratello mio? Il libro si è aperto. E... Ha anche le parole illuminate. Quindi questo è un incantesimo, protettivo. E sembrano però vive le entità che cercano di... Eh, sì, esatto. Più che altro... Beh, ricordati che i cristalli sono fortemente legati alle anime. Anche perché la texture sembra proprio quella di Sith. Esatto! Sembrano proprio braccia Sithiane. Esatto, sì. Quindi cosa hanno fatto? Hanno vincolato delle anime dentro i libri? Eh, c'è brutta roba qua, eh. Decisamente. Ma tanto ho la testa di cera, quindi mi importa un cazzo. Dunque, immergersi la testa nella cera era obbligatorio per non essere ammazzati dagli archivi. Vi torna? Sì. Perché le anime dentro i libri ti riconoscono, se sei con la testa di cera, come non ostile e non ti fanno del male. Mi sembra la palissiana. È ubriacante questo posto, mamma mia. Ti lo è. Continue scale che sembrano portare da qualche parte e poi non portano da nessuna. Mi sorprende non sia un mimic. Riccioli della strega. È una frusta. Una frusta nata dalla chioma nera. Cosa? Eh, eh, leggi, leggi. Di una delle figlie della strega di Isalith. Creatrice della fiamma del caos. Cerca di capire dove ti trovi. Lunghi e lucenti di cui questa frusta è intessuta sono permeati dell'essenza del fuoco, che può essere sfruttata grazie all'abilità dell'arma. Ma dunque Lothric non è semplicemente il luogo dove convergono le terre, ma anche proprio il luogo che ha riassunto tutta la storia di queste terre. Beh, quello... Conquistandone pezzi del passato. Mettiamola così. La prima cosa che hai detto è un evento naturale. Eh, sì. Il secondo no. Esatto. Quindi Lothric ha conquistato in qualche modo tutto il resto. Eh, da... Fin dall'alba dei tempi. Ricordati che c'è scritto che in antichità Lothric era conosciuta come la terra che conquistava tutto ciò che convergeva verso essa. Questo significa che già in antichità era conosciuta così. Quindi, fatti due conti, è una cosa gigantesca. Che cos'è Lothric, alla fin fine? Eh, è Lordran. Mi piace come domanda. Non è Lordran, perché a Norlondo è a Iritil. Lordran è spezzata. In più parti che, grazie alla convergenza, sono state assorbite e accorpate altre terre. Che cos'è Lothric? È il buco... è il centro del buco nero? Che cos'è? Sicuramente... Sicuramente è un buon modo di metterla al centro del buco nero. Però, in effetti, ti fai una domanda molto intelligente. Ma che cosa? Ma non è vero! Ho la testa di... Ah, va via! Eh, sì! Non è infinita! Forza interiore! Oh mio Dio, che nostalgia! Esatto! Piromanti temono la fiamma, ma questa paura scompare quando essa viene accettata, come sostituta della forza fisica. Eh, ora non posso più fare il gazzetto, allora. Direi di andare. Aspetta, forse non ho esplorato bene qui. Ma invece sì. Fa un culo, fa un culo, fa un culo, fa un culo, devo stare attento ai libri, tanto si vedono. Super hyper mode. Eravamo a Lost Island. Eravamo a Lost Island. C'è della cera. Era una trappola. Bravo Miyazaki, bravo. Lothric ha avuto un'ostilità feroce anche nei confronti delle creature sopravvissute a quella che è la storia che conosciamo. Ma quell'ana probabilmente è morta a causa della guerra che hanno fatto a Carthus, ai demoni, a tutto. Cioè, loro volevano fare il collezione. È vero, è vero. Me ne rendo conto, i capelli parlano chiaro. Però è come se in qualche modo Lostrick fosse anche la culla del nuovo mondo. Sì, certo. Ho droppato comunque la candela. Ottimo. Leggi. Certo. Certo che leggo. Stai trovando cosine. Si comincia. Una candela coperta di scaglie d'avorio, utilizzata dai saggi dei grandi archivi. I saggi utilizzavano questa candela per farsi luce e per la lama di cui era dotata. Chi la utilizza ora può godere delle sue proprietà magiche. E quindi era sia un'arma che un catalizzatore. Luce guida. E quindi è una traduzione di merda. Ah, ok. Perché infatti uno lo utilizzava come catalizzatore, ho visto, mi tirava le anime. No, mi dispiace questo oggetto. Guarda, questo ti aiuterà molto a capire dal giapponese. Però aspetta, ha un... Questa è la storia. Vai, vai, continua. Ha un L2 importante. La candela è una temporanea fonte di luce che svela indicazioni utili per il viaggio. Forse vai kippata in questi archivi per una quest segreta? Guarda. Ti leggo dal giapponese e capirai molto di più. Sei pronto? Pugnale candelabro brandito dagli studiosi dei grandi archivi. È coperto di cera. Un tempo quest'arma era la luce che guidava gli studiosi e la lama che li ammoniva e regolava. In altre parole, il motivo per il quale hanno questa cera indosso è una forma di, di nuovo, abnegazione e ammonimento a quello che gli stregoni sono sempre stati nella storia dei regni. Qualcosa che Ben si allontanava dal vincolo e dalle leggi del mondo. Quindi, praticamente, loro si mettono la cera e hanno questa sorta di candela in testa perché è il fuoco che deve guidarli. Sono loro gli unici ad accettare qui all'Othric un tale trattamento. E sono sottomessi. Sottomessi e costantemente controllati. Costantemente controllati. È vero, è proprio l'icona del fuoco che controlla la magia e la ricerca, soprattutto. Esatto. Che non vada fuori dal vincolo. Sento del lucerto, là. Che cazzo faccio? Non ce l'ho a due mani. No. Non ho mana, non faccio un cazzo. No. Ok, bella. Allora. Attenzione. Oh mio Dio, oh mio Dio. Il saggino è arrabbiato, eh. Esatto. E ricordatevi che possiamo darvi fuoco quando vogliamo. Esattamente. È una scala? Eh sì, è. Calcio a scala, ma certo. C'è anche un oggetto che non ho mai preso. Ma come lo prendo? Lo fa il butto. Non posso far il butto. Dai, stai esplorando molto bene. Che ci faccio con questa scala? È uno shortcut? Sì. Questo qui è uno shortcut. Fatemi andare fino in fondo, ma dovrebbe essere uno shortcut. Amici del wrestling di grandezza adeguata. E infatti qui c'è la lucertola morta. Sì, confermo. Oh no, ho sbagliato strada, vero? Vabbè che il giro è corto, però. Mannaggia ragazzi, qua mi perderò fortissimo, vi chiedo scusa. È normalissimo. Dovevo tornare indietro, ma adesso ho il dislivellino pazzo. Sì, sì, vabbè, tanto non ci vuole niente. Quei nemici morti, qua è tutto dritto. Ok. Allora. Qui adesso... Abbiamo di nuovo sto oggetto. Bisogna effettivamente buttarsi. In qualche modo. Ma andiamo con ordine. Ehi, Greyrat. Mamma mia che male che faccio con queste armi. Un astrullabile. Vabbè un ottimo allenamento per come si esplora, eh, perché... Mamma mia. Mamma mia. Sì, sì. Guarda, lì c'è un tetto, quindi ci sta dicendo che a un certo punto dovremo buttarci anche dall'esterno e guardare giù. O addirittura semplicemente uscire su un terrazzino, ma non penso. Come cazzo ci si arriva lì? E se fosse banalmente codesto? E se fosse banalmente codesto? Non è possibile. Non è Elden Ring. Ehi, gringo. C'è una leva. Ma penso morirei a tirarla. Non è vero. Cosa accade? Non ho la più pallida idea di cosa io abbia fatto. Eh, questa leva ha cambiato qualcosa in qualche libreria probabilmente. Cioè, tipo passaggio segreto. Eh, panico. Ehi. Volevo farlo shiftare, ma non è possibile. Però è permanente, quindi in realtà non dovrei perderci troppo tempo. Perché guarda. No, è permanente. Non puoi tornare indietro, quindi vuol dire che va fatto. Qui fuori ovviamente immagino non sia cambiato il cazzo di nulla. Perfetto. Ah, oh mio Dio! Eh, lo so, lo so. Pezzo di tita. Buono. Oh, sì, sì. Immergeti, immergeti. Sento un brutto brutto rumore. È sempre il saggio, credo. Ma forse sono le mani. Anche. Eh, il rumore che sentivi erano... Le manine. Aspetta, ok. Ho capito il butto pazzo. Aiuto, aiuto, aiuto. Lui è uno dei capi. No, per castare comunque usano una roba diversa. Non usano sempre il candelabro. Eh, ragazzi. Burgopoli. Devo prima buttarmi di qua. Però vorrei clearare la mappa un attimo. Per evitare di essere colpito da tutti. Aiuto. Aiuto. Aiuto, aiuto, aiuto. Mi hanno dato fuoco? No, no, no. Ok. Però lui è infuocato. È un problema. Non mi aumenta la debolezza del fuoco, vero? No. Spadonk. Che donk. Mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio. Mamma mia. Cosa? Sì. Yes. Grazie. Oh fuck Ok ragazzi ho una buona notizia e una cattiva notizia La buona notizia è che ho trovato una paleta illusoria La cattiva è che togliamo queste armi e passiamo alla katana Ormai la confidence con la katana è troppo elevata Ah si ti abbassa la difesa del fuoco Tipo un botto Ecco immaginavo Perdovami Sì sì ti rende una candela Non è perriabile lui vero? Te lo chiedo sempre non mi ricordo mai Loro lo sono E ricordati il loro potere Il congelamento dici? No no il rompiculo Che è forte Ah ok si certo Oh mio dio Via Mi ha devastato proprio Ma avevo zero estus ragazzi Sarà una lunga esplorazione ragazzi No non così tanto perché sei stato un maestro fino ad ora Molto bravo molto attento Nonostante l'ora Nonostante la stanchezza hai esplorato bene Ora è anche l'opportunità In caso sono qui per aiutarti Per sgamare cosa ha fatto quella leva Visto che non hai visto il movimento che si è creato No E ci penso io Vedrai Che ovviamente è permanente Non andrà rifatta immagino No no infatti il vantaggio è anche quello Sei al top No non fare questo No ok Cioè ti aiuto in questo Ne vale la pena Così l'esplorazione viene premiata fino in fondo Vai no Vai alla strada normale Torna alla vasca Dall'inizio Sì 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 quindi da qui Esatto Vai esatto vai alla vasca Bravissimo Aspetta Devo andare a Dragopoli Scusami No Ma sei un No Devi andare dall'altra parte Comunque in un'altra direzione Quindi Ah ok Ti ho dato una mano Ho fatto lo sbaglio Vado Ok No vabbè Vabbè Raggiungi Non ti preoccupare Raggiungi la vasca Ma anche zigzagando Perché Effettivamente guidarti lì è un casino Ok Allora Io mi ricordo che la vasca Si raggiungeva Ah no Aspetta Però così Non ho combinato niente Basta andare qua Poi da qui Poi da di qua Poi c'è la sua Aspetta No esatto Perché tu devi andare qui a destra Ok E poi dietro ancora No Dritto Eh si esatto Bisogna Vediamo un po' Vai Sali Sali Ha cambiato Questo È il game award Questa è il game award Ci sei c6 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 Ha abbassato Vabbè 180 gradi 180 gradi Vai avanti lì Guarda un po' C'è una Lì a destra Ok No no A destra A destra A destra Alla destra Vedi Esatto, quella era una libreria Ok, 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 ho capito Ha abbassato questa libreria Esatto Io pensavo avesse creato questa congiunzione Ma in realtà questa non l'ho mai esplorata Anche Sabaku si è perso in blind Ragazzi, ma sta mappa è un incubo Lastra di Tita, buono Vabbè, io faccio l'uccido però qui Perché se no Ah, sì, sì, sì Eh, sì, sì, bravo Inutile prendere la cera qui Perché la riprendiamo dopo E spero dure di più Sabaku no ubriaco, esatto Sido è l'unico in blind Che non gode per una lastra di titanite Perché ne ha trovate altre quattro Esatto, ormai Ormai per lui sono le roba da poveri Esatto, cioè, dai Bravi tutti Ah, sì, esatto Lastra leggendaria per paesani Per peasants proprio Sì, sì, sì Dovevo fare il buttino da qui Premesso che non so come prendere ancora Quell'oggetto sul tetto Ma mi sarà presto chiaro, spero Giorgione Morto Ok, faccio il butto Così prendo sto cazzo di oggetto Fottiti, coglione Ohia Ok, scaglia di tita Buono Buonissimo Anche una lucertola Sopra una libreria Un botto di roba, ragazzi Sì, sì, sì Anzi, qua ci saranno delle belle sorprese Ah, ma qui c'è il saggio Come cazzo Ok, in realtà bene Aia, male Mamma mia Perché qui diventa un casino Ma vaffanculo Mamma mia, ragazzi Mamma mia Mamma mia Mi avete fatto venire L'orticaria Cioè Però per fortuna È lo shortcut Fico Sì No, ma che 300k anime Ragazzi Erano 30k Ah, minchia 300k Una scommessa No, aveva fatto uno per volta Ma vedrai Ah, ragazzi Mi sto impegnando Non è che non mi sto impegnando È Serino Si impegna Lì c'è un altro oggetto ancora poi Da ricordare Questa cosa Però non mi posso buttare da qua Vedo Madonna che bordello Allora Un po' Fammi vedere tu sei Ah, qui Non sono a posto Se vai qua sopra C'è un segretino Eh, ma aspetta Ti sei già buttato lì Ah, ma aspetta Aspetta Ne hai perso uno Te lo faccio trovare È un attimo Qui c'è un problema Sì, sì Torna 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 Devo un attimo Devo un attimo Un attimo pulire questo posto Perché è veramente un inferno E poi ne parliamo È quello che stavo cercando di fare prima Via 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 Perché mo' spara Sì Ok Andato via A posto Oh Abbiamo un po' più di respiro Allora Buono Amici del grande wrestling Allora Un attimo che Clearo tutta la Parte qui esterna Così posso Decentemente anche Destreggiarmi Col cazzo di So io chi ragazzi Il cazzo di chi Però Dov'è il saggio Bello Ok Torno giù Mi dicevi Ho missato un segretino Esatto Sali lì sulla scala Ok Dietro Esatto Sì sì dove eri prima Esatto Questo non è un segretino È proprio un segreto Ah ma qui da buttarsi Sì Ti eri già buttato Però perché l'oggetto non c'è Mamma mia ragazzi Te lo faccio comunque Ok Qui se ti fermi un attimo È finita Sì Esatto No ragazzi Ok Buttato Esatto Ora guarda in basso Mi piacerebbe Molto Sì Un po' E lì c'è un altro oggetto là Sì Maestro Cioè Lo vedo Sì Rolla Rolla giù Aspetta aspetta Ho paura di morire Cura di non morire Ah beh sei coraggiosissimo È l'incantesimo Tu sei proprio Perfetto vai Ok rollo in avanti quindi Sì Se non ti colpisce In caduto Ok ce l'hai fatta Mamma mia Mo scivo laggiù Oh Evelyn È quella di Blubbo O no È quella Diciamo Diciamo Di sì È quella che spara Più frecce Contemporaneamente O meglio Che fa Freccia automatica Mitraia Ne fa tre alla volta Ed era di un fabbro Leggendario Di Lordran Ah si trovava Negli archivi Del duca Ragazzi oggi Il momento Nel quale Divengo Un vero Souls player Fermi Esatto C'è streva Quella di precisione Ok maestro Oggi sono diventato Un vero Souls player È fatta Il rituale è passato Visione Di segreto Cos Ragazzi Ok Ok Dicevamo Adesso Uno alla volta Saliamo prima De qua Anzi no Prima di là Dove c'era Francone Mettiamo anche il cera Nessun problema Aia Non era qui No Non era qui Dov'era la parete segreta Cosa? No non mi sto ricordando Dove era la parete segreta In alto Quindi devo salire All'altra scala Si Ah ma tanto Non mi fanno niente No Neanche Io Gesù Cristo Ragazzi Oggi Mi arrabbio Veramente tanto Ma come cazzo Si esplora Questo posto Da qui sono arrivato Devi togliere di mezzo Il Il saggio Si Perché il saggio Non mi sta permettendo Di orientarmi Di fare nulla Come come si sale Come si sale Nessuna Delle cose Permette di salire Perché qui c'è una scala Userò la scala Ragazzi Ma non è Non l'ho mai usata Credo Dove cazzo sono Vabbè Si Credo di si Ok Ah va via Il primo Alla prima hit Tipo Eh veloce Devi si Ogni volta che lo combatti Di essere Di fare il più danno possibile No donno Lo plongio come una merda Cos'ha droppato ragazzi Scusate Mi ho Una cosa incredibile Nella goduria Vai negli oggetti chiave Pergamena Uuu Pergamena di cristallo Bravo Pergamena segreta di cristallo Dell'archivio centrale di Lothric Portala a uno stregone Per apprendere le stregonerie di cristallo Queste stregonerie Sono opera del drago pallido Sit il senza scaglie Che Logan incontrò di persona Si tratta di un ramo Della stregoneria Portato avanti Ai saggi di cristallo E qui è una storia Che noi abbiamo già ormai ricostruito But still Interesting E io sono caduto Per l'ennesima volta Facendo il plangio Quindi finendo In un nuovo Punto Con delle scale E delle robe Pietra confessionale Ok Pensa Compensa Orbeck Che cosa penserà Quando vedrà quella cosa Minchia godrà eh No 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 Perry a quest'ora Non devo farlo Questo non è un nemico normale Eh lo vedo Oh vero Tra l'altro Sta utilizzando un incantesimo È di cristallo È di cristallo Anche l'altro Non è il primo a farlo Eh Madonna mia No 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 Eh no Dove sono Ok via Ragazzi non ci sto più Cioè sto perdendo da Mario Non hai braci No Fuck No ragazzi Sto panicando palesemente Ci sono le sei Le sei magari Le tre ore di sonno di oggi Esatto No ma le capisco Guarda Non ti preoccupare Che le capisco Però In realtà Credi mi sta andando Molto bene Perché Stai scalando questo luogo Senza lasciare nulla indietro E La cosa è piuttosto importante Ho gridato al signore Ma sì Allora Vabbè meglio In realtà meglio Perché ero caduto in un posto E non sapevo esattamente dove fosse 404 Orientamento Not found Ok Dove cazzo Sono qua Allora Saliamo di qua No ora Ora non c'è più il saggio Quindi sicuramente Più easy La La faccenda Devi farti anche un giro Un po' più tranquillo Perché C'è una certa stanzetta Che vorrei tu trovassi Io spero di trovarla Ma prima devo ritrovare Dove cazzo era Iritillino Oh mio dio Oh mio dio Mi sono visto morto Dai Iritill dovrebbe essere qua Esatto Iritillo Ce n'è un Un candelatore Un candeliere Un candeliere Mi maledicono Mi maledicono Mi maledicono Credo ci sia Anche il libro Di ciccio gamer Tra questi ragazzi Questo ci purca Guarda Vembia Vembia Che cosa ho detto Che cosa ho detto Francesco Che non si fa Perry a quest'ora Eh ma sono belli C'hai ragione Infatti Ma sono belli Reaction vera Eh dai Non è vero Non mi fare un Perry Yes Per favore Yes Ecco esatto Anche al maestro No Via Madonna mia Che purga Che purga Ho preso il congelo Ho preso il congelo Ho preso il congelo Dai Vieni qua Vieni qua Perrino rinvigorente Dai perrino rinvigorente No Dai Aia No 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 alla purga Ho detto no Aia Aia Mamma mia Mi ha fatto il purgo Oddio Non poteva semplicemente vincere Essere noi solo alleati No Non è avidità ragazzi È vuotezza Questa Sì Questa è vuotezza Ragazzi Questa è vuotezza Non siamo avidi Siamo qua qui Ma anche tu sei morto Sì No Adesso io Ma siamo Siamo in momento Ulasil 1500 di ping Eh sì Sì Io ho 1500 di ping Adesso Ok ok Siamo in momento Ulasil Tutti e due Sì sì Eccolo 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 Burger King Eccolo qua Sì Ma infatti Sullivan come ha fatto A perdere Ragazzi Bravo Miyazaki Complimenti I call plot hole Dimitri Ragon Ma secondo te Io adesso mi ricordo Dov'è il primo cavaliere Secondo te Io in questo momento Me lo ricordo Non ho neanche idea Di cosa tu stia parlando Oggetto al primo cavaliere Non lo so Boh Dove All'Otrick All'insediamento Dei non morti Quale cavaliere No Non è qui Ma non dovevo andare Nel terrazzo Sì sì che dovevo andare Nel terrazzo Oh mio D All'Ordran Ah ok Allora dobbiamo Non ricaricare Non ricaricare Di S1 Ragazzi A torti Ma questi che mi attaccano Io lo ucciderò solo Con i PR Bravo Mi sembra la serata giusta Per farlo Amico mio Saggio Saggio Intelli Cazzo Non ci posso credere Non ti preoccupare Neanche mi scriveranno Di questa battaglia Ma cosa sta succedendo Io ho guardato un attimo Il tuo schermo E ti ho visto fare 47 il roll Tipo E' morto finalmente Sì è morto Il merda Stanchezza Ok E' morto E' morto Facciamogli Cosa ho fatto Ho fatto il giro in tondo Ditemi di sì Sì sono un grande Ragazzi Ragazzi ho fatto il giro Il contatto E' finita E' finita ragazzi Però credimi Avrai un premio importante Quando lo sconfiggerai Preziosissi Per speciale Cappuccio da schiavo Intendevi questo No 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 Ok No non entrerò stavolta In questa stanza So che con questa stanza Si torna indietro ragazzi L'ho capito La settima volta Che ho sbagliato Adesso prendiamo la scala Che è uno shortcut Pazzo Pazzissimo ragazzi Guardate Pazzo Adesso ragazzi Noi schippiamo Perché non siamo In Dark Souls 2 Però qui c'è Candelino E' vero Non me lo ricordavo Ok Non ci importa Ragazzi Non ci importa Greyrat Ha fatto una brutta fine Eccoci qua E adesso Vi faccio vedere Come si fa Questo mostro Ok Innanzitutto Bisogna smettere Di voler fare i perri Ok Bello Basta 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 Vi prometto Ragazzi Vi prometto Che non faccio più perri No 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 Spara merda Con metodo Con metodo Con metodo Ho fatto il Nameless King E Frida Non posso non fare Giulio Di Irithil Dai Ti prego Basta Lasciami stare Lasciami andare A dormire Ok Aspetta Aspetta Ho un finale Velocissimo Se vuoi Ce l'ho Ce l'ho E' pronto No 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 Bisogna prima fare lui No 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 Il finale è velocissimo Ma se non lo uccidi Non ci sarà Sai Donnie Ho capito Che non vuoi finire Di S3 Ma così Mi sembra esagerato No Ho fallito Persino l'entrata Adesso Allora Ok Ok Ci scrivono Se possiamo Continuare Fino alle 5 Che siamo carichi Ci sarebbero Cose fighe Ma A un certo punto La lore La creeremo Noi dal nulla Proprio Dalle nostre azioni Uscirebbero Descrizione No 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 Questa non è la strada giusta Bisogna andare fuori Stagneremo noi Esatto Ok Aia 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 Devi smettere di farmi male Ok Grazie Ora c'è quell'altro Stronzo di merda Che adesso muore male No perché ho finito la stamina Ok Ok Here we go Ok Ehi, ti prego, basta Ok È lì, è lì È morto, è morto È il momento, Perry Grande Però non, io ho fatto le po' Uh, intanto questo Leggiamo Armatura di un cavaliere della missione di Irithel Avvolta come da un soffio freddo I cavalieri ricevettero gli occhi del gran sacerdote Ma ne furono trasformati in guerrieri assetati di sangue Adatti a svolgere solo compiti di guardia Beh, però mi sono sembrati molto all'attacco qui più che di guardia, no? Sì, però ti dico una cosa importante Anche in giapponese viene esplicitato come Siano creature che perdono completamente il proprio segno di libertà È perché entrano in questo incubo eterno Quindi possiamo chiudere le speculazioni, infine, dopo tanto tempo E dirti no, non è come infine pensavi, non hanno cambiato bandiera perché non possono farlo Quindi Sullivan, fin dall'inizio, voleva probabilmente uccidere Lothric Perché doveva, prima perché voleva mettere le cose a posto Visto che il vincolo era in pericolo a causa della sua malattia Ha delle sue, tu non sai perché non ha vincolato Se ci sta ancora provando, se non ci sta provando Se non vuole come pensavi, no? Però non è una loro scelta E quindi per te anche la danzatrice vuole uccidere Prince Lothric? Come scusa? Eh, beh, allora Però, perché allora ci ferma? La danzatrice, allora Allora Fondamentalmente quello che accade all'interno del cambio Non è tanto quello loro, ma di Sullivan È Sullivan che cambia E a quel punto La danzatrice Arriva solo una volta Che deve uccidere Emma Mettiamola così Sì Ma di questo, guarda, di un riassunto del loro ruolo Ne parliamo domenica Bisogna essere freschi e ti spiego bene tutto quello che accade Armatura di un capo Ormai è semplice, ma Ricominciare da capo adesso con lo stand-out non è molto Comunque no, qui sempre la stessa cosa Anche nella chest E anche qua Sì, quindi praticamente era un brainwash Quello Della consegna degli occhi Esatto No, non domenica Venerdì prossimo ragazzi Sì, purtroppo ragazzi Dovrete aspettare una settimana Mi spiace Purtroppo sì Allora Flusso di anime Guarda che leggeva lui Era uno studioso Guardalo Allora Flusso di anime Cosa Stregoneria insegnata dai primi studiosi Quando Lotric e l'archivio erano ancora giovani Lancia Una scarica torrenziale di anime Il primo degli studiosi negava l'esistenza del vincolo del fuoco Come Che cazzo stai dicendo Ma è enorme questa cosa È tradotta male, non preoccuparti No No, Blue Bowls E fu l'insegnante privato del principe Cioè di Prince Lotric Esatto Cosa dice? Ti prego dimmi Cosa dice l'originale Ti prego Ti spongiuro Considera Che questa Allora C'è una chicca extra Simpatica Diciamo un richiamo Che ti farà piacere scoprire Ma Questa descrizione Può essere il finale Perché ci sta È praticamente La prima grande metà Di quello che scoprirai Oltre gli archivi Ma questa cosa è speciale Questo incantesimo È Soul Stream In inglese Soul Stream Si trovava anche In forma di Soul Geyser Praticamente in Dark Souls 2 Sono incantesimi molto vicini Ok Comunque adesso ti dico Treguneria Del primo Degli studiosi Che Comunque Che è quello della statua Secondo me È ma Il primo Degli studiosi Chi vuoi che sia Aldia? Comunque In parte Soul Geyser Era un incantesimo Di Aldia Ah ok Comunque Non dico niente Stereguneria del primo Sul vincolo Sul vincolo Grazie a questo Segreto Studioso Grazie Segreto mentore Segreto maestro Scholar Sì Esatto Che era scettico Sull'eredità Del fuoco Però Aldia Come fa A essere L'insegnante Del principe Gli appariva Come appare A Come appariva Certo A Cassandro Ti ricordi Ti ricordi il finale Di Dark Souls 2 Con Aldia Che lui ti dice Give us your answer No? E tu scegli qualcosa Ma evidentemente Visto che il mondo Ancora Non ha trovato La terza via Salvo forse La chiesa nera Lui ha continuato A cercare qualcuno Che gli desse la risposta E L'ha trovata forse Con Prince Lothric E l'eclissi O forse Anche se l'eclissi In realtà abbiamo detto Che forse è solo Un evento naturale Magari non l'ha trovata Con Lothric Ma ha inseguito La risposta Fino A lui Fino a Prince Lothric Sì 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 Esatto E quindi Lo ha probabilmente Portato a non vincolare Potrebbe essere È una supposizione Però Beh Mi sembra la cosa più sensata È un'eredità di Aldia In Dark Souls 2 E Lo Scholar Agli albori di Lothric Che ha portato Questo incantesimo È diventato In segreto Il consigliere Di Lothric Che beh È una bellissima cosa Non mi aspettavo Che recuperasse Aldia A mia zaghi Nemmeno io Figo Infatti C'è pochissimo C'è solo questo Praticamente Ma ha una conseguenza Gigantesca Ed è bellissimo È veramente Una figata Il fatto che Aldia Fosse lo Scolaro Nascosto Che stava Sussurrando A Prince Lothric Di non vincolare Che il vincolo Era Esatto Che il vincolo Non era la risposta Che ha tutto il potere Di farlo Perché può apparire Ma anche in dimensioni Più piccole Può apparire Quindi Certo Assolutamente Allora Abbiamo un luogo Da raggiungere Una piccola chicca finale Io ci sono ancora Nel senso Mi oriento di merda Quest'ora Dopo poche ore di sonno Ma ci sono Dipende Io ho un finale A 40 secondi Oppure Si può proseguire Quanto vuoi Tanto poi vado in coma Nel senso Poi voglio C'è un finale Più grosso? Allora Guarda Il finale grosso C'è ma È lontano Non è dietro L'angolino Ovviamente Un finale grosso C'è Gigantesco Che è quello Che avevi in mente Inizialmente Si Però Rimane il fatto Che abbiamo fatto Nameless King Due ore e mezza Di speculazione Ci sta Ci sta Tu guarda Buttati su quel Abbiamo guardato Anche i tuoi video Esatto Esatto Allora Mi devo buttare Hai detto Si sul ponte Puoi arrivarsi anche dal basso Aspetta Il caballero Esatto Aspetta c'è un'altra libreria Ah è questa Ok bella Oh mio dio Shortcut Aspetta però Figata Intelligenza No no ti prego No in realtà Quella è la strategia migliore Ma Cazzo Fa malissimo Fa malissimo Con quella spada De merda Sì 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 Che è È il momento Mori Aspetta Fammi fare un po' Di panorama Ma scusa Vediamo se riesco a vedere Ste cazzo di teste Più da vicino No Cosa siete voi Eh ma da vicino Sono raccapriccianti Poi ti farò vedere Delle immagini Ci sono andato Con la free cam Ho visto cose Un po' aldiosi sarebbero Un po' Un po' Diciamo che comunque C'era tanta legna In Aldia Aldia non è più così unico Ok Però il fatto di trovare Soul Stream Che ti cita Il primo scolaro E che lo puoi collegare Ad Aldia È una cosa che Grazie al giapponese Diventa veramente figa Molto figa E ti assicuro Che quando scoprirai Qualcosa in più La prossima volta Raggiungendo il finale Che ci sarebbe stato oggi Lì dirai Oh Oh sì L'anello finale Del sapiente Esatto Quindi il terzo Pilastro di Lotric È Lo studio E infatti c'è anche la statua È Un anello decorato Con l'immagine Di uno studioso Aumenta l'intelligenza Lo studioso È considerato Uno dei tre pilastri Del governo Del re di Lotric Ed è il custode Degli archivi reali Quindi Religione Scienza O meglio Religione Storia E esercito Questi sono i tre pilastri Di Lotric Insieme a di Verne E a sto pezzo Di cazzo Anche lui Anche lui è un pilastro Ma è esploso? No È andato Ho fatto backstep Tipo Ti ringrazio Per queste bombe Gentilissimo Ok Dicevi Dicevo Che Se adesso vai sul ponte Però aspetta Fammi fare la Oddio Non Ho cambiato idea Ho cambiato idea Ho cambiato idea Ho cambiato idea Non voglio andare qui Lasciami andare Lasciami andare Lasciami andare Lasciami andare Dunque questi Sono veramente fastidiosi L'ho trovati fastidiosi Anche nel derringhe Infatti Eccomi Per andare sul ponte Devo buttarmi Non necessariamente Ma puoi farlo È comodo Devi provare Più avanti Da qua sopra Vero? Sì Eccolo Continua a salire Libropoli Ok Mi butto Buttate E ora? E ora Cerca una parte del ponte Che è distrutta Per un segretino Qui Bravo Sali Scendi Scusa Non ti preoccupare Ci siamo Scendi Lì c'è la lucertola Sì la vedo Che volevo vedere Se ci fosse altro Se ci fosse Aldia Ok Eh mi butto Di nuovo Scendi ancora un po' Sì sì Scendi ancora un po' Sopravvivi a lui Ti prego Beh Sopravvivi a lui Ti prego Baffa qualcosa Prega Qualche No Così senza pietà Per te stesso È fatta ragazzi È fatta È già morto È fatta raga 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 È fatta È fatta È fatta È nostro Perché voglio provare a far per È nostro ragazzi Quindi prima beviamo Buttandola via E poi Mamma mia Pro Pro Pezzo di tita Ma non è sicuramente Quello che vuoi farmi vedere What Ah ma Ah Ho perso questo corridoio Prima No Sì Adesso Sì Però Segui Prosegui Ecco Guarda qui Aspetta Prima di raccoglierlo Ma fermo Ma è la stanza di Esatto Non lo è letteralmente No però è la stanza dove è morto Logan Sembra la stanza dove L'environment è lo stesso Qui c'è il passaggio segreto Per scendere di sotto Te l'ho chiamato Ecco Allora Te l'ho chiamato come richiamo Perché Chiaramente Questa è una cosa molto importante Questo Non È L'archivio del duca Chiaro? No chiaramente Però Gli archivi I grandi archivi di Lothric Ti vogliono comunicare Con estrema chiarezza Questo è un momento bellissimo Aspetta ma questa stanza Sei stato bravissimo a ricordartelo Perché Chi lo ha costruito Aveva chiaramente Preso e studiato L'architettura degli archivi L'architettura degli archivi Sì 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 Anche fosse per avere Somma una sorta di Religiosa ispirazione A quello che era Il grande Sith Sono d'accordo Ma sicuramente Anche perché lo studio Della magia Era altrettanta Religiosa devozione Quindi yes Esattamente Campana di cristallo Eh Gibe a second Tu pensa Aspetta Prima che tu legga Ok non leggo Tanto questo È il finale È bello Valorizzarlo Pensa un po' Che cosa è successo Abbiamo l'eredità Di Drangleic Con le campane Per castare i miracoli Cristallizzata Con l'apoteosi Di ricerca folle Di Logan Grancappello Beh è Lothric È proprio Lothric Esatto Esatto Bravo Esatto Esatto Cioè Lothric è il luogo Nel quale convergono I culti E le conoscenze Di Lordran E Drangleic Non a caso L E poi la finale Trick Quindi Lordran Drangleic Come mi dicevi Nel primo episodio Lothric Eh Che cazzo è Lothric Ragazzi Si ritorna lì Leggi pure Una campana sacra Posseduta Un tempo Uh da Gertrude Quella che si è poi Convertita agli angeli Figlia degli dei E profanata Dagli studiosi Dell'archivio centrale Ok Quindi è stata profanata Perché Le sono state aggiunti Cristalli Giusto Di Questo ne parleremo Sicuramente Il potere Dei cristalli Garanti Successo Agli studiosi Rendendo Possibile Lanciare sia Miracoli Sia stregonerie Con questa Campana No Io Non ho Interprete All'inizio ho avuto Anch'io il dubbio Per quello mi sono fermato Ho pensato È Gertrude Essere stata profanata No aspetta È la campana In teoria No Allora Questa sarà la prossima Introduzione Diciamo che il finale Ci sta dal dio così Perché è questo Quello che hai scoperto E possiamo lasciarlo In sospeso Per venerdì Perché lì Cominceremo a proseguire E andare un po' Più a fondo Però No In giapponese È molto più Completa Alla descrizione Nel termine Che toglie il dubbio Sul fatto Che anche Gertrude È stata profanata Perché È stata Vittima di esperimenti Cioè Loro qui Hanno fatto Veramente lo schifo Proprio in nome Del fatto Che erano Finalmente Sì sicuramente Obedienti Ma avevano in mano Qualcosa Che era stato Buttato qui Ma ne riparliamo Sono state fatte cose A Gertrude E hanno anche Portato esperimenti Su questa campana Che a sua volta Ha raggiunto Questo risultato Perché Gertrude Era la fede E loro Gli stregoni Una figlia Della regina Profanata È proprio questo Il punto Ne riparleremo Venerdì prossimo Cosa stavano cercando Di fare Di creare Lothric 2 Perché era Troppo debole Il fratello Chissà Chissà Volevano potenziarla Per avere Un'eventuale Plan B Diciamo che Le figlie di Guinevere Non sono mai state Molto fortunate No Decisamente no E soprattutto Il culto degli angeli È arrivato prima O dopo L'avvicinamento Di Gertrude Al culto degli angeli Ha comportato Una punizione esemplare Quale Vieni qui E facci da cavia O al contrario Un po' come La miseria Avvicinato al cristianesimo Così La sofferenza Subita dalla profanazione Degli archivi centrali Ha portato Lei a credere Non più Nella sua famiglia Non più Nguin Negli dèi Nei miracoli Ma negli angeli Che la salvassero Guarda Questa è una bella Bella cosina Su cui Lasciarci Perché altrimenti Poi bisogna Andare a fondo Però Sicuramente Guinevere È stata Fautrice Di un Discorso Pro vincolo Bello forte Però È per forza Che possa in qualche modo Essersi emancipata Dalla famiglia Per quello che è successo È Il tutto legato Proprio al fatto Che è scappata Da Norlondo Io parlavo proprio Di Gertrude Però in questo caso Ah ok Gertrude Gertrude Non posso ancora È presto per Gertrude Cioè io Mi chiedevo Gertrude È arrivata agli angeli Prima o dopo Queste torture Ok ok Le torture Sono la punizione Per Essersi Permessa di Idolatrare Gli angeli Oppure È la sofferenza Ad averla portata A volere Una fede nuova E una salvezza diversa Cioè entrambe le cose Sono plausibili Sì Esatto Non posso dirtelo Non è Non è ancora il momento Evelyn Una rarissima Balestra a ripetizione L'elaborato meccanismo Permette di scagliare Tre dardi In rapida successione Mira con cura Per infliggere Danni devastanti Questa balestra Viene utilizzata come arma Ma è una vera opera d'arte E ricorda uno strumento musicale È vero È proprio un violino Troppo lontano L'altro finale Vero? L'altro finale Sarebbe arcade Fartelo raggiungere Quindi No Cioè Se vuoi fare le tre No No perché ho paura Di rovinarlo Poi Nel senso che Ragazzi Ieri 15 ore di live Lo sentite tutte Oggi ne ho già fatte due Da Every Eye Più altre cose Ah ok C'è stata la pubblicazione Dell'Antico Chateau Finalmente E Quindi Ah guarda Ci sarà La prossima volta Non sarà un finale Sarà il cuore Ok Diciamo che Diventa meno Anime Perché a quel punto Se sarà il cuore Si andrà Dipende da quanto ci si mette Perché guarda Io sono qui Se Non raggiungiamo Questo finale Forse Uno dei prossimi Avrà Allora Ci saranno Dei momenti In cui Al posto di renderli Finale Saranno Fine parte Della live Con enorme Climax E poi si prosegue Quindi Ma ci sta Va bene La prossima Allora Sì La prossima Attiguarda La prossima Avrà uno dei momenti Più emozionanti Secondo me Per alcuni punti Allora A livello di Emozione vera e propria Ne riparleremo Più sul finale Di Dark Souls 3 Però Ok A livello di Cosa che non ti aspetti Perlomeno Vissuta In un certo modo La prossima volta Vivrai uno dei momenti Sicuramente Più alti A livello di Intimità Da giocatore Della trilogia Sotto alcuni punti di vista Per come hai vissuto Questo percorso Per quello che abbiamo fatto insieme Secondo me Anche della tua vita La videogiocatore Perché Porca miseria Ho droppato un abito Oh bene Finalmente Questo ti spiega meglio Il loro Leggiamolo e chiudiamo Dai 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 Dov'è l'abito Veste coperta di abbondante cera Appartenuta a un saggio Dell'archivio centrale Gli stregoni che studiano Nell'archivio centrale Si prendono cura Delle proprie candele In modo maniacale Perché conoscono bene I pericoli Che si annidano nei libri E beh certo Perché sennò Muoiono praticamente Stritolati Da queste anime Vincolate Esatto esatto No ragazzi Credetemi Io vorrei continuare Ma Ho la testa fritta E Giocherei male Esplorerei male E Non posso farlo Non voglio Non ne pare una pena Ok Alla fine Non scappa Ma la prima volta Si Cioè Le cose che Le cose che lo aspettano Sono qui Il viverle la prima volta No Sono soltanto Quando arriveranno Quindi Non c'è fretta E anzi Te lo dico anche in live Decisamente Si sta avvicinando Sempre più Perentorio Il momento in cui Fare una chiacchierata Sulla season 3 A livello di Fare opening E magie Fighe Va bene Va bene Maestro Le chiedo scusa Per il coitus Interruptus Ma La stanchezza è arrivata Ore 2 5 di notte La stanchezza è arrivata Però intanto Abbiamo fatto 4 ore e 40 di live Pensa Ed è stato Densissimo Oh raga Abbiamo fatto Veramente un botto di roba Abbiamo fatto Esatto Teorie pazze Il nameless Il nameless Tutto quello che abbiamo letto dopo Abbiamo parlato di Ornstein Del suo retcon Carla Abbiamo visto i tuoi video E ho riscoperto Un mondo Che ha fatto tornare Filza Molte persone Siamo venuti qui Agli archivi Abbiamo fatto un giga discorso Sugli angeli Sulla statua Sullo studioso Su Frampt Sul sacrificio Della culla Della prima fiamma Richiamato da una statua Sulla figura angelica Che secondo te È un po' troppo Volo pindarico Ma a me sembrava Quasi una metamorfosi Antitetica Alla cacciata Dei cultori Degli angeli Abbiamo trovato Qui dentro Un altro saggio Di cristallo Fatto un po' Di esploro E soprattutto La magia di Aldia Esatto Cioè si è fatto un botto In realtà Si è fatto veramente tanto E che avrei voluto Fare di più Guarda Cioè questo è un finale Da time out È finito il tempo È finita la batteria Ma pensaci È stato un po' come i TGA Nel senso che finiscono E tu sei cotto E dici Aspetta ma che c'è Stato Amica c'è stato un botto No Sì Quindi Considera che Avrai motivo Di farti battere il cuoricino E Tanta ciccia ti aspetta Godopoli Maestro Io la ringrazio Veramente tanto Per questa live Blessatissima Radiamo Diego Ci sto Let's go Ti auguro una buona notte Alla prossima Alla prossima Ciao Ciao Ragazzi Thanks Per questa live Veramente molto bella E molto fresca Io vado a riposare Prima di subito Sono veramente Stanchissimo Ho dormito tre ore oggi Tre ore perché avevo Una visita medica Tra l'altro Quindi neanche a poterlo fare Ci vediamo Domenica Sei ore Di BDSP Competitivo Si gode Ride A Diego E se non ve lo avete Se non ve lo siete visto Guardatevi L'Antico Chateau Molto bello Illustrazioni Si gode Muah Buonanotte Ciao bellezze